html il corso il corso completo gratuito dove vi prendo per mano e vi insegno il linguaggio su cui sono basati tutti i siti web del mondo lo facciamo col metodo ciraolo non vi preoccupate vi seguo io vi faccio imparare passettino dopo passettino un linguaggio che non è non è neanche così complicato se sappiamo come utilizzarlo a proposito di utilizzarlo vi ricordo che trovate i marcatori di capitolo nella descrizione di questo video li potete cliccare andare direttamente alla sezione che vi interessa così che possiate seguire il corso magari in diverse giornate anche perché mi raccomando fate sempre mentre imparate man mano che vi spiego le cose voi mettete in pausa e le provate le mettete in pratica le fate anche voi a vostra volta poi seguite ancora un pezzo di spiegazione magari un capitolo e poi provate e ancora procedete in questa maniera in modo da essere sicure e sicure di di interiorizzare di acquisire le cose che vi spiego man mano che ve le spiego e poi vi ricordo anche di venirmi a trovare su ciraolo punto me dove trovate tutti i miei riferimenti trovate il canale telegram chiocciolina ciraolo dove ci sono i news le risorse gli aggiornamenti le cose che imparo man mano che le imparo insomma la possibilità di entrare in relazione con me in maniera un pochino più stretta o addirittura la newsletter ancora di più a un livello ulteriore di intimità di scoperta e di cose che vi trasmetto beh trovate tutto su ciraolo punto me così come il canale instagram il canale twitch tutte le cose che faccio di qua e di là ma direi bando alle ciance bando alle ciance perché siamo qua per imparare l'html siamo qua per darci dentro vedrete che una volta che avrete finito questo corso sarete in grado di realizzare le vostre semplici pagine web naturalmente saranno delle pagine web semplici sarà un punto di partenza che potete decidere di utilizzare o per progredire ulteriormente nella vostra capacità di web design oppure per avere un quadro generale di come funziona il web che comunque una cosa utile indipendentemente dal fatto che poi si vogliono realizzare le pagine qualsiasi cosa voi vogliate fare online e basta che dirvi se non grazie in anticipo per il fatto che seguirete questo corso mi raccomando dateci dentro e partiamo subito con la prima lezione e allora andiamo a creare la nostra prima pagina web questa lezione non vi serve tanto per capire il procedimento con cui realizziamo una pagina web ma per capire quanto è semplice la procedura quindi non vi preoccupate se non capite ogni singolo dettaglio di quello che vi farò vedere la cosa fondamentale che capite nel complesso quello che sta succedendo perché poi andremo a declinare e delineare ogni singola fase nel dettaglio nelle prossime lezioni e allora la prima cosa che vogliamo fare sul nostro computer è andare a creare una cartella all'interno della quale si troverà il nostro sito internet la chiameremo sito apriamo quindi questa cartella e andiamo a creare al suo interno un nuovo file di testo e in realtà andrebbe bene qualsiasi altro file ma noi adesso facciamo tasto destro nuovo documento di testo attenzione prima di creare il file assicuratevi che nella cartella in visualizza mostra nascondi sia selezionato estensioni nomi di file questa cosa vale sia per windows che per mac è necessario vedere l'estensione del file per esempio nel caso di un file di testo punto txt perché dovremmo andare a modificare quell'estensione quindi mostra estensioni nomi di file eccolo qui adesso è selezionato e adesso con il tasto destro possiamo fare nuovo documento in realtà quello che vogliamo creare un documento punto html quindi in questo caso prendiamo un documento a caso un documento di testo va benissimo e assicuriamoci di modificare anche l'estensione quindi tutto quello che sta dopo il punto in questo caso punto txt chiamiamo questo file index punto html non è un caso che ho scelto il nome index punto html perché quello è il file principale di ogni singolo sito web è quello che il browser va a cercare nel momento in cui noi andiamo a visitare un sito internet quindi index punto html premiamo invio confermiamo al sistema operativo che vogliamo modificare l'estensione del file non vogliamo più chiamarlo punto nome file punto txt ma vogliamo scegliere il punto html clicchiamo su sì ed ecco che abbiamo creato il nostro primo file html quindi una pagina web ce l'abbiamo qui ce l'abbiamo sul computer e se facciamo un doppio clic su questo file ci si aprirà il browser esattamente in quella pagina web peccato che in questo momento il file è completamente vuoto e infatti ci ritroviamo un sito vuoto per andare a modificare questo file dobbiamo premere con il tasto destro sul file stesso e andare su apri con quello che vogliamo fare in questa fase è aprirlo col blocco note se non ce l'abbiamo già in questo elenco perché i file punto html si aprono col browser di solito infatti vedete che io qua ho un elenco dei browser a disposizione bene se non abbiamo il blocco note in questo elenco andiamo a cliccare su scegli un'altra app e da questo elenco andiamo a selezionare altre app e ci andiamo a cercare il nostro blocco note eccolo qui perfetto lo clicchiamo e attenzione preferisco non selezionare questa voce usa sempre quest'app per aprire i file html non selezioniamola perché perché il file html noi lo vogliamo aprire a volte col blocco note per modificarlo ma molto spesso col browser per guardarlo e quindi preferisco aprirlo soltanto questa volta col blocco note clicchiamo su ok ed ecco che ci ritroviamo eccolo qua il mio blocco note un file completamente vuoto esattamente come da aspettative ridimensioniamo un attimo questa finestra in modo che sia più leggibile da parte vostra benissimo quindi doppio clic lo apriamo col browser tasto destro apri con e vedete che adesso che lo abbiamo selezionato da una da scegli un'altra app ce lo avremo sempre qui nell'elenco quindi sarà molto più veloce per noi andare ad aprire il file col blocco note e adesso che cosa facciamo in questo bel file beh ci scriviamo qualcosa per esempio ci scriviamo ciao ne virgola sono andreone benone mi raccomando salvati il file vedete l'asterisco file salva e adesso che il file è salvato noi possiamo riaprire il browser che già aperto in quel file e ricaricare la pagina oppure possiamo se preferiamo andare a fare di nuovo il doppio clic qui sul browser sul file non fa assolutamente nessuna differenza a questo punto andiamo a ricaricare la pagina e voilà ecco la nostra prima pagina web e voi direte è un po bruttina però mi sembra una una pagina web molto minimale ve le ingrandisco per farvela vedere meglio ma resta il fatto che una pagina molto minimale siamo d'accordo siamo d'accordo abbiamo appena cominciato la cosa fondamentale è capire che l'html è basato su file punto html e che scrivendo dentro a quei file noi otteniamo le pagine web che poi da internet andiamo a richiamare in questo caso la pagina web si trova sul nostro computer se l'avessimo messa online beh il risultato sarebbe stato assolutamente lo stesso avremmo trovato questo testo andiamo a riprendere la dimensione normale per farvi vedere l'ultimo l'ultimo aspetto di questa lezione torniamo sul nostro file html e mandiamo a capo ecco fatto mandiamo a capo il nostro testo e adesso guardate che cosa faccio vediamo se riesco a ingrandire un po in modo da farvelo vedere meglio creo il mio primo elemento html non vi preoccupate se non vi è chiaro dopo lo vediamo meglio adesso stiamo facendo un fast forward per darvi un'idea di massima di quello che succederà che cosa farò simboli maggiore e minore e all'interno di questi simboli di maggiore e di minore vado a inserire un codice in questo caso scelgo il codice h1 ho appena creato il mio primo elemento html a questo punto vado a creare di nuovo un simbolo maggiore e minore ancora h1 ma prima di h1 metto uno slash quello che si trova sopra il 7 in questo momento io ho appena aperto e chiuso un elemento html e qui dentro ci scrivo titolone ciraolone mi piacciono tutti questi one di questa lezione vi faccio notare quindi che abbiamo un elemento html di apertura un elemento di chiusura che riconosco in quanto uguale al precedente ma con uno slash prima del codice tutti gli elementi html hanno questo simbolino di maggiore di minore dentro tra questi due elementi html ho un testo non vi preoccupate dopo vediamo meglio tutto rivediamo tutto la cosa fondamentale che adesso salviamo e riapriamo il browser e andiamo a ricaricare questa pagina e guardate la magia nella nostra pagina web non solo abbiamo un testo ma abbiamo anche un titolo e sì perché questo h1 è l'elemento che dice al browser mettici un titolo tutto quello che si trova tra l'apertura dell'elemento e la chiusura dell'elemento voglio che sia un titolo e infatti tutto questo testo è stato considerato dal browser come un titolo vi faccio notare che la parte di html quindi due tag h1 e la chiusura dell'h1 è stata nascosta dal browser non c'è più o perlomeno non la vediamo perché il browser la nasconde e la traduce per questo il html si chiama un linguaggio di markup perché mette dei segni che vengono interpretati dal browser vengono nascosti dalla nostra vista e vengono tradotti in una formattazione in questo caso un titolo e questo è quanto abbiamo realizzato la nostra prima pagina web è stato super facile ma in realtà le cose che possiamo fare con l'html sono tante 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 di più e allora adesso chiudiamo la lezione con questa piccola soddisfazione mi raccomando mettete in pause provate anche voi a fare le cose che vi ho fatto vedere e poi andiamo a vedere quali sono i dettagli dell'html partendo da alcune considerazioni generali anche alcuni piccoli tips and tricks che vi possono aiutare nel vostro percorso di apprendimento e poi andiamo a vedere tutti tutti beh non tutti dai molti 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 di questi elementi html cioè di questi simbolini che possiamo andare a inserire per far trasformare il testo in un testo formattato buona visione ma quindi che roba è questo html beh partiamo col chiederci che cos'è l'html come funziona potrebbe sorprendere alcuni alcune di voi scoprire che l'html non è un linguaggio di programmazione ma è bensì un linguaggio di markup che cosa vuol dire markup vuol dire che l'html è composto da tanti piccoli codici che vengono tradotti dal nostro browser in elementi della pagina in formattazione del testo e un piccolissimo primordiale esempio lo abbiamo già visto nella lezione precedente quello che avete appena visto è un codice si chiama tecnicamente un tag un elemento lo vedremo meglio successivamente che ci arriva all'interno della pagina quando noi l'andiamo a richiedere durante la navigazione web quindi noi stiamo navigando e internet poi vediamo un pochino meglio cosa vuol dire ci manda una pagina piena zeppa di questi codicini codicini che noi non vediamo perché il nostro browser li traduce e allora se noi siamo in grado di scrivere questi codicini oltre che saper scrivere l'html saremo anche in grado di far tradurre al browser sulla base di quello che noi desideriamo comporre nella nostra pagina e quindi mettere un elemento un'immagine un link un grassetto un corsivo un sottolineato eccetera 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 vi faccio vedere una cosa questo è il primo trick di questo corso questo è forte se voi siete su chrome premete ctrl u sulla tastiera in qualsiasi pagina web e quello che vedrete è l'html di quella pagina in questo caso stiamo vedendo l'html della pagina di wikipedia sull'html e questa inception è veramente meravigliosa ora voi direte ma io non ci capisco assolutamente nulla in questa in questo testo qua non importa adesso non dovete capirlo quando avrete terminato il corso quasi tutto quello che vedete scritto qui dentro vi sarà comprensibile non so se riuscite già a distinguere vedete tutti gli elementi che poi vengono tradotti questi qui sono tutti elementi che noi non vediamo nella pagina perché noi vediamo soltanto il testo questo è quello che noi vediamo mentre questo il browser ce lo cancella e ce lo traduce in maniera automatica facendoci poi vedere effettivamente la pagina web quindi questo questa specie di backstage del sito lo vediamo andando a premere ctrl u da chrome anche con gli altri browser si può fare la stessa cosa nella maggior parte dei casi la scorciatoia è sempre ctrl u se nel vostro browser è un altro è un'altra scorciatoia potete scoprirlo da soli da sole quindi quella che in questo momento ci viene presentata come una pagina che ha una colonna sinistra una colonna centrale un titolo un sottotitolo una immagine tutta una serie di molto lunga peraltro di link anche dei grassetti vedete altre immagini tutti questi elementi sono elementi html sono elementi che noi andiamo a ritrovare se sappiamo come leggere nel codice html della pagina stessa quindi ctrl u per andare a verificarlo c'è da dire però una cosa in realtà se andiamo a guardare nel complesso tutto 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 quello che vedete in questa pagina non è formato soltanto dall'html mi spiego meglio l'html è lo scheletro di una pagina web e la struttura è l'elenco degli elementi che compongono una pagina web quello che state vedendo in questo momento è tutto o quasi tutto html ma per ottenere un risultato così elaborato come una pagina web moderna in realtà si utilizzano altri due linguaggi il primo è sicuramente il più importante da conoscere dopo l'html e il css che è quel linguaggio che si occupa di dare la forma alla nostra pagina quindi di decidere il colore del testo il colore dello sfondo la dimensione di un'immagine il carattere di un testo o la grandezza di una scritta bene tutti questi tutti questi parametri sono stabiliti dal css quindi se da un lato l'html è quello che io uso per la struttura ed è il più importante in questo caso da conoscere se vogliamo realizzare pagine web beh dall'altra parte non posso fare a meno del css che invece è quello che mi serve per dare la forma il colore la grandezza la dimensione il bordo la distanza insomma tutto ciò che ha a che fare con l'estetica della pagina tant'è che se noi andiamo a vedere la fonte della pagina web da qualche parte troveremo anche un file punto css proviamo a cercarlo con il punto css in questo caso non lo troviamo vediamo se invece facciamo style eccoli qua eccoli qua lo abbiamo appena trovato questo file per esempio è il file css di quella pagina web che stavamo vedendo vedete è ancora una volta questo file vi sembrerà estremamente complesso in realtà nel momento in cui poi si impara come si programmano questi linguaggi è relativamente facile da comprendere forse scritto così tutto ammassato un po più difficile però ce la si può fare quindi il file css il linguaggio css quello che dà la forma e in più abbiamo un ulteriore e ultimo per questa piccola disamina linguaggio di programmazione molto famoso perché javascript il javascript è il primo di tutti questi vero e proprio linguaggio di programmazione vedete e non a caso il javascript è il linguaggio che si occupa invece della interattività della pagina cioè di tutto ciò che ha a che fare con l'interazione dell'utente per esempio e javascript che dice nel momento in cui vai ecco guardate abbiamo appena visto per caso un esempio e javascript che sta dicendo nel momento in cui il mouse si posiziona sul link fai vedere l'anteprima di quel link questo è una è uno script che è stato scritto con javascript oppure vedete ancora qui oppure che ne so io se io adesso clicco su questa rotellina succede qualcosa questo qualcosa che è accaduto è stato stabilito da javascript tutto ciò che ha a che fare con il movimento e l'interazione con l'utente ancora di più è stabilito con javascript javascript è un vero e proprio linguaggio di programmazione peraltro è uno dei più importanti da imparare se volete imparare a programmare diciamo che per quanto riguarda la costruzione delle pagine web è forse meno indispensabile rispetto ad html css ma nel momento in cui volete un quadro completo sicuramente dovrete affrontare anche javascript mi raccomando css e javascript non li affrontiamo in questo corso ma li affronteremo in video successivi quindi vi iscrivete al canale così almeno non vi perdete gli approfondimenti su css e javascript e abbiate la consapevolezza che in questo caso ci limiteremo alla parte prettamente html e magari guarderemo molto molto superficialmente anche qualcosina di questi due programmi giusto per avere un'infarinatura molto generale trovate comunque i marcatori di capitolo per andare nella sezione che più vi interessa e non è un caso che le pagine html che costruiremo per adesso avranno una forma non troppo diversa da quella che state vedendo molto rudimentale molto molto superficiale perché perché non andremo a lavorare invece con la parte di forma che il css perché non facciamo questa cosa qua perché già html è un grosso argomento e preferisco che ci concentriamo su un argomento specifico verticale ma in questa maniera siamo sicuri e sicure di impararlo al meglio quindi andiamo avanti col corso sull'html lasciamo un attimo da parte il css il javascript quando avremo acquisito bene la parte di html che è fondamentale assolutamente importante ci potremo dedicare anche a tutto il resto e dopo aver visto come funziona l'html ci dobbiamo fare ancora una piccola fondamentale domanda per capire il giro del fumo ovvero come funziona internet e sì una domanda da poco una domanda così semplice banale alla quale proverò a dare risposta la prima cosa che dobbiamo sapere che quando noi andiamo a navigare una pagina web noi utilizziamo una client avete capito bene il nostro computer il nostro telefono il nostro tablet qualsiasi cosa noi stiamo utilizzando per navigare si chiama ai fini della nostra lezione un client ricordatevi questo nome perché spesso tornerà nel vostro apprendimento dello sviluppo web questo meraviglioso computer che ho appena realizzato con le mie doti da disegnatore si chiama client il client nel momento in cui andiamo a richiedere una pagina web effettua una richiesta e la effettua a un altro computer che si chiama vediamo se lo indovinate questa s potrebbe essere un indizio sta per server e sì il client manda una richiesta eccola qua al server facciamo r di richiesta il client manda la richiesta al server il server è un altro computer che si trova altrove nella maggior parte dei casi si trova nelle strutture delle aziende che forniscono questo servizio si chiamano hosting una delle più famose in italia si chiama aruba giusto per darvi un nome che magari vi dice qualcosa bene nel momento in cui il client effettua la richiesta al server questa richiesta passa attraverso la connessione internet e arriva al computer che si trova potenzialmente anche dall'altra parte del mondo attenzione in questo caso specifico il lavoro che stiamo facendo e che probabilmente replicherete anche voi in realtà ha una piccola eccezione cioè in questo caso il client e il server corrispondono perché noi abbiamo i file di internet nello stesso computer dal quale li stiamo richiedendo ma questa è un'eccezione nella maggior parte dei casi questa cosa avviene tramite internet quindi che cosa succede il client manda la richiesta al server il server che cosa fa cerca nell'indirizzo specifico di quella richiesta un file all'interno di una cartella e quel file si chiama index.html quindi se io scrivo l'indirizzo del mio sito web sul browser ciraolo.me cosa sto dicendo al server sto dicendogli vai a cercare nella cartella del sito internet ciraolo.me il file index.html il server la trova tutta questa roba qua è un lavoro del server che sa fare molto bene perché il suo lavoro principale è a questo punto che cosa fa il server restituisce un'altra r che sta per risposta richiesta risposta e che cosa manda indietro manda indietro un file html esattamente come quello che abbiamo già visto che a questo punto viene tradotto dal browser quindi il browser prende quel file lo traduce andando a modificare tutti gli elementi html e rendendoli invisibili alla nostra vista e trasformandoli in elementi veri e propri in formattazione in parti della pagina e ci mostra alla fine la pagina questo succede sia che usiamo il computer sia che usiamo il telefono qualsiasi strumento noi stiamo utilizzando la procedura è sempre la stessa il client fa una richiesta che arriva al server che mandi indietro una risposta eccola qua che mandi indietro una risposta nuovamente verso il client che a sua volta tramite il browser si occupa di tradurre il linguaggio html se noi volessimo visitare una sottopagina del nostro sito web beh quella sottopagina si troverebbe all'interno del sito come sottocartelle per esempio oltre alla pagina index html ci potrebbe essere un'altra pagina che si chiama facciamo contatti punto html ed ecco che abbiamo la pagina dei contatti e poi potremmo anche avere vediamo creiamo un'altra potremmo avere una chi siamo punto html magari facciamo chi trattino siamo di solito nei file di rete nei file internet non si usano mai gli spazi quindi non mettete mai degli spazi ma usate il trattino alto oppure il trattino basso in base alla vostra preferenza più frequentemente si usa il trattino basso in questi casi quindi in questo caso abbiamo appena creato tre pagine la pagina index è quella che risponderà all'indirizzo ipotetico del mio sito ciraolo.me la pagina contatti è quella che risponderà all'indirizzo ciraolo.me slash contatti la pagina chi trattino basso siamo sarà ciraolo.me slash chi trattino basso siamo avete capito che la pagina index è quella generale quella che viene considerata dall'html la home page noi potremmo anche avere delle cartelle potremmo decidere per esempio che qui abbiamo la cartella blog all'interno della quale abbiamo a sua volta delle pagine web andiamo a creare articolo 1 punto html e andiamo a creare ho sbagliato e andiamo a creare articolo 2 punto html avete visto che ho sempre modificato l'estensione del file in questo caso queste pagine web si troverebbero in ipoteticamente pensando al mio sito internet ciraolo.me slash blog slash articolo 1 e poi ciraolo.me slash blog perché questa è la cartella all'interno della quale si trovano slash articolo 2 in questo modo il server è in grado di capire di comprendere la struttura del nostro sito web e noi stessi siamo in grado di linkare ogni singola pagina del nostro sito adesso andiamo a cancellare un po di queste cose che abbiamo creato quindi via i contatti via chi siamo via il blog manteniamo soltanto l'index html così ripartiamo di nuovo da zero ma adesso abbiamo capito il funzionamento sia del server e del client che delle pagine delle sottopagine la cosa fondamentale in questo momento che dobbiamo ricordarci è che se non diamo indicazioni particolari ogni sito andrà a cercare la sua pagina index.html quella è considerata la pagina principale del nostro sito web una cosa molto utile da sapere quando ci approcciamo al mondo del web design è che utilizzare un editor di testo professionale non solo potrebbe toglierci diversi grattacapi ma ci renderà più rapidi efficaci e abili nel fare quello che dobbiamo fare e allora se fino ad adesso abbiamo utilizzato il dignitoso blocco note di windows beh da ora in poi in questo corso ci spostiamo a un editor di testo più professionale in modo da avere alcune funzionalità che il blocco note di windows non ci mette a disposizione in particolare andiamo a utilizzare da ora visual studio code è uno dei tante disposizioni probabilmente nel momento in cui realizzo questo video il più famoso ma nulla vieta che cerchiate su internet editor text editor e ne troverete sicuramente moltissimi questo è completamente gratuito direi che funziona molto molto bene e ci sono diverse buone ragioni per utilizzarlo che non vi racconto in questo corso ma vi rimando al video che vi linko nella descrizione del corso dove vi ho spiegato molto bene il motivo per cui io lo ritengo il migliore editor di testo in questo momento sulla piazza quindi utilizzate quello che preferite va bene anche se continuate col blocco note di windows ma considerate che visual studio code ha una serie di vantaggi che vi per a scoprire i quali vi rimando al video di riferimento vi dico soltanto ve ne faccio notare soltanto un paio molto importanti ecco qua visual studio code ci vado a caricare dentro il file html semplicemente trascinandolo al suo interno e beh vi voglio far vedere soltanto due cose che potrebbero farvi venire la culina in bocca andiamo a ingrandirlo in maniera spropositata rispetto alle nostre esigenze voi non lo terrete così ingrandito nel mio caso va bene perché così almeno vediamo bene gli elementi beh la prima cosa che vi voglio far notare è che tutti gli elementi html sono evidenziati questa è una cosa che fanno soltanto gli editor di testo più avanzati e se vedete il nostro blocco note vedete che l'h1 che poi il browser non ci mostrerà questo ormai lo abbiamo capito io lo vedo uguale al titolo e allora a colpo d'occhio potrebbe essere più complicato andare a distinguerlo mentre con un editor di testo più avanzato ecco che noi andiamo a distinguere tutti gli elementi che poi verranno tolti allo sguardo del visitatore della pagina e riusciamo a distinguere il tutti i testi che invece rimarranno e saranno visibili in questo modo noi con un colpo d'occhio riusciamo a trovare tutti gli elementi che stiamo cercando in maniera molto più rapida un'altra ragione per cui possiamo preferire un editor più professionale sta nel fatto che guardate io scrivo semplicemente il codice di un elemento quindi non scrivo neanche minuscolo h1 maiuscolo ma scrivo semplicemente h1 e guardate lui qui sotto mi individua già l'elemento che voglio inserire e nel momento in cui premo invio sulla tastiera guardate che mi ha già scritto tutto mi ha già messo l'apertura e mi ha messo la chiusura con tutti i maggiori minori slash tutto quanto vedete con che velocità io sono riuscito a creare guardate degli elementi html in questa maniera voi adesso non sapete che elementi sto realizzando ma vi basti vedere che riesco vedete a crearli molto velocemente molto più velocemente che se avessi un blocco note e dovessi fare per esempio minus minore h1 maggiore minore slash h1 maggiore eccetera 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 vedete che è molto più lunga la procedura mentre molto più rapida con l'utilizzo di uno strumento professionale adesso magari prima della prossima lezione provo a togliere un po di elementi qui intorno in modo da vedere bene soltanto il testo e direi che tendenzialmente abbiamo finito con le premesse abbiamo visto anche che possiamo utilizzare un editor di testo ho dimenticato di dirvi che sto usando in questo momento il tema chiaro probabilmente voi installerete visual studio code con un tema scuro quindi con uno sfondo nero o grigio scuro che potete anche valutare di mantenere anche molto più riposante per gli occhi quindi tendenzialmente io preferisco i temi scuri e con il mio editor utilizzo un tema scuro in questo caso preferito mantenere il tema chiaro per il corso di questo corso perdonate il gioco di parole perché questo qua lo rende un pochino più leggibile in tutte le varie situazioni quindi tenete presente questo aspetto e valutate voi che aspetto grafico dare al vostro visual studio code dicevamo abbiamo finito con le premesse abbiamo adesso sappiamo tutto 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 quello che dobbiamo sapere veramente veramente siamo pronti e pronte per iniziare a sporcarci le dita iniziare a programmare in html e adesso finalmente siamo pronti e siamo pronte a spippolare con le nostre belle ditina sulla tastiera e giocare e capire di conseguenza l'html e partiamo proprio da quel concetto che da solo ci permette di capire tutto l'html la cosa in assoluto più importante quando studiamo questo linguaggio ovvero il concetto di elemento e il concetto di tag mi raccomando seguite bene questo capitolo perché il più importante in assoluto e se vi sembra di non averlo interiorizzato bene piuttosto tornate indietro e riascoltatelo più volte finché non avete capito bene cosa sono gli elementi e che cosa sono i tag gli elementi sono tutte le parti della pagina web che la compongono in questo caso per esempio noi stiamo vedendo due elementi da un lato abbiamo l'elemento titolo dall'altro abbiamo l'elemento testo per essere precisi l'elemento testo vedete che un po sospeso perché perché non è racchiuso all'interno di nessun marcatore di nessun tag ma questa cosa qua la vediamo dopo facciamo finta che lo sia invece e quindi in questa pagina web abbiamo due elementi tutte le pagine web si comporranno di innumerevoli elementi quindi noi all'interno della nostra pagina andremo a mettere elementi dentro elementi dentro elementi a fianco elementi sotto elementi sopra elementi vedrete che la pagina piano piano diventerà molto ricca di elementi andiamo a prendere di nuovo la nostra wikipedia e andiamo a vedere quanti elementi ha il codice della pagina di wikipedia andiamo un pochino più sotto guardate quanti sono tutti quelli che vedete qui sulla sinistra in questo momento sono tutti elementi che compongono la pagina web e infatti se noi torniamo sulla nostra pagina web questi elementi li riconosciamo perché abbiamo il riquadro all'interno del riquadro abbiamo il titolo all'interno del titolo abbiamo il link e poi abbiamo il sottotitolo con i link con le icone ecco qua l'icone poi abbiamo l'immagine questo è un altro riquadro vedete con il suo titolo con un altro titolo in grassetto con tutti i link e poi abbiamo l'elemento laterale con la sidebar che a sua volta è suddiviso in elementi vedete tutti quelli che vi ho evidenziato sono gli elementi di una pagina web questo è un altro elemento all'interno del quale abbiamo due elementi e poi abbiamo altri sotto elementi insomma abbiamo capito che una pagina web è composta da moltissimi innumerevoli elementi come fa il browser a distinguere questi elementi lo fa grazie ai tag proprio questi affarini di cui abbiamo già brevemente discusso in italiano potremmo tradurli come etichette ma quasi tutti utilizzano il termine inglese tag questi affari qua questi piccoli codici che noi andiamo a scrivere nel nostro file sono quelli che il browser andrà a riconoscere e a tradurre per trasformarli nella pagina che andiamo a vedere e ognuno di questi tag si scrive nello stesso modo abbiamo sempre il simbolino del minore e del maggiore che potremmo anche chiamare più correttamente parentesi angolari all'interno delle quali si trova un piccolo codice una lettera e un numero oppure qualche lettera nel nostro caso volendo rimanere sul titolo andiamo a scrivere nuovamente h1 ed ecco che abbiamo appena realizzato il tag di apertura dell'elemento titolo attenzione abbiamo elemento titolo abbiamo un tag di apertura abbiamo il testo che compone quel titolo e poi ci rimane un tag di chiusura perché ci serve il tag di chiusura perché in questo momento noi stiamo dicendo al browser che riceverà la pagina web attenzione perché da questo momento in poi tutto 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 quello che troverai nella pagina sarà un titolo e quindi dobbiamo anche dirgli quando abbiamo finito con il nostro titolo perché un computer cosa fa legge in maniera sequenziale e quindi parte dall'alto e legge verso il basso e traduce tutti i tag che incontra per cui noi gli diciamo attenzione abbiamo aperto il titolo e ora vogliamo andare a chiuderlo e quindi scriviamo all'interno un titolo che potrebbe essere un titolo molto fantasioso titolo e andiamo a realizzare a scrivere il tag di chiusura attenzione che probabilmente ecco fatto lo immaginavo a un certo punto visual studio code lo riconoscerà e lo completerà in automatico questa è un'altra delle funzioni per cui è utile avere uno strumento come questo lui ha capito che c'era un un tag in apertura e quindi non aspettava altro che poterlo chiudere e così ha fatto ed ecco che noi abbiamo quindi il tag di apertura dell'elemento il tag di chiusura e ancora una volta il contenuto di quell'elemento che in questo caso è soltanto un testo ma che di norma potrebbero anche essere altri tag con altri elementi con altri testi con altri elementi con altri testi e così all'infinito come le scatole cinesi una dentro l'altra vi ricordo che l'unica cosa che distingue il tag di apertura rispetto a quello di chiusura è questo slash che noi andiamo a mettere tra la prima parentesi angolare e il il codice vero e proprio in questo modo noi andiamo a dire al browser benissimo ho appena creato un altro elemento guardate ve ne faccio vedere un altro andiamo per esempio a creare l'elemento h2 per velocità scriviamo soltanto h2 poi con un invio facciamo completare al nostro browser e scriviamo titolo di secondo livello a questo punto andiamo a cancellare un attimo questo testo così almeno non ci confondiamo magari sistemiamo anche gli spazi ecco fatto a questo punto la nostra pagina web è formata da tre elementi abbiamo un titolo di primo livello un altro titolo di primo livello e un titolo di secondo livello non vi preoccupate in questo momento del significato di ognuno di questi tag per il momento non ci interessa ci serve soltanto capire che sono dei tag di apertura e di chiusura e che racchiudono degli elementi e infatti se io vado a salvare questa pagina con un ctrl s e poi vado sul browser nella mia solita pagina guardate ops mi sa che non l'ho salvata salviamola andiamo sul browser ricarichiamola ed ecco che io ho i due titoli di primo livello e il titolo di secondo livello che riconosco perché è un po più piccolo rispetto agli altri due una volta che io ho capito come funzionano i tag che racchiudono gli elementi ho capito tutto l'html ribadisco il concetto se questa cosa qua non vi è chiara tornate indietro perché è troppo importante per essere seguita con superficialità dovete capire questo punto abbiamo sempre un tag di apertura un tag di chiusura e un elemento che viene racchiuso tra i due tutti i tag quindi tutto ciò che era chiuso nelle parentesi angolari il browser me lo cancella questo non lo vedrò questo non lo vedrò questo non lo vedo questo non lo vedo questo non lo vedo e questo non lo vedo tutto questo mi viene cancellato io vedo soltanto il contenuto di questi elementi debitamente formattato questa cosa è molto molto importante una volta che ho capito questo sono a posto quindi ricordatevi apro apro chiudo apro e come ho aperto allo stesso modo con uno slash vado a chiudere all'interno di questi elementi ci metto quello che mi serve è molto importante anzi è utile più che molto importante di solito che cosa fanno gli sviluppatori prima scrivono i tag e poi scrivono il contenuto quindi in questo caso io potrei andare a scrivere prima l'apertura e la chiusura e poi il contenuto di quell'elemento per esempio in questo caso io vado a scrivere che ne so io h2 lo vado a completare vedete che ho già tutto il mio elemento con il tag di apertura e il tag di chiusura e ora comodamente posso andare a scriverci adesso scrivo così sono sicuro di non dimenticarmi mai qualche tag di chiusura che è uno degli errori più tipici quando si sviluppa in html dimenticarsi di chiudere l'elemento che si è aperto quindi uno magari si dimentica e poi si trova tutta l'intera pagina come titolo di secondo livello perché perché avevamo lasciato un tag aperto senza chiuderlo quindi prima fate il tag di apertura poi fate quello di chiusura e poi tornate indietro e dentro a quell'elemento andate a scrivere il suo contenuto praticamente tutti i tag si aprono e si chiudono con pochissime eccezioni tenete presente per il momento non vi serve saperlo lo approfondiremo successivamente tenete presente che ci sono alcuni rarissimi tag che non si chiudono che si auto chiudono per esempio uno molto famoso è l'immagine se io ho un tag immagine img non ho bisogno di chiuderlo questo è già sufficiente per dire al browser qui ci devi mettere un'immagine ovviamente non gli abbiamo ancora detto quale immagine questo lo studiamo più avanti nel corso vi ricordo che ci sono i marcatori di capitolo per il momento ci basta sapere che quasi tutti i tag si aprono e si chiudono salvo rarissime eccezioni le rarissime eccezioni di solito sono esplicitate e a questo punto voi già potreste avere quel po di confusione che vi fa pensare ok ma cavoli quanti tag mi devo ricordare quanti sono gli elementi di una pagina web sono tantissimi possibile che io mi debba ricordare tutti questi tag ognuno con il suo codice specifico e ognuno con la sua specifica funzionalità la risposta è no non ve li dovete ricordare tutti perché google è vostro amico tutti gli sviluppatori web non si ricordano a memoria ogni singola cosa legata allo sviluppo che stanno facendo ma utilizzano google come se fosse un'estensione del loro cervello lo fanno tutti quelli che non lo fanno è perché sono magari un pochino troppo vecchi a scuola perché chiunque oggi quando sviluppa ha sempre da un lato l'editor di testo e di fianco il browser per andare a cercare tutte le informazioni che gli servono non serve è inutile tenerle in testa in particolare se voi cercate su google html cheat sheet potete trovare gli elenchi di tag html vedete che ce ne sono tantissimi e insomma ce ne sono per tutti i gusti per tutte le preferenze questo per esempio è un pdf per cui magari lo potete anche stampare ci sono gli elenchi di tutti i tag html presenti guardate questo per esempio sono 12 pagine se non sbaglio di tag html con anche la spiegazione per ognuno vedete per esempio il tag block quote è quello che si usa per indicare una citazione in questo caso abbiamo l'apertura abbiamo la chiusura e in mezzo abbiamo il contenuto di quello specifico elemento parliamo sempre di tag il tag dd è quello che specifico una descrizione apertura chiusura contenuto vedete che è scritto tutto qua non vi serve ricordarvelo a memoria trovate tutto su internet scrivete html cheat sheet eventualmente scrivete anche italiano se avete qualche fatica con la lingua inglese e vedrete che ne troverete tantissimi in questo modo se voi avete capito quello che vi ho spiegato e avete quel minimo di abilità di ricerca di google ecco che avete finito di imparare l'html non sto scherzando voi potreste interrompere qui il corso e utilizzare gli strumenti che vi ho dato per imparare da soli e da sole l'html perché una volta che avete capito la struttura degli elementi e dei tag di apertura e di chiusura e avete capito dove potete andare a cercarvi ognuno di questi tag perché in base a quello che voi scriverete a loro otterrete un effetto diverso basta avete imparato l'html ma se proprio volete ma se proprio volete continuare a imparare l'html insieme a me e allora non dovete fare altro che rimanere qui per le prossime lezioni di questo corso e ora che abbiamo capito come funzionano gli elementi ci dobbiamo anche dire che noi questi elementi li possiamo annidare cioè li possiamo inserire uno dentro l'altro potenzialmente all'infinito come se fossero delle matriosche come delle scatole cinesi beh ogni elemento può contenere potenzialmente infiniti elementi facciamo un esempio facciamo un esempio concreto andando a cancellare tutta questa pagina che faticosamente abbiamo creato e andando a vedere l'elemento più generico possibile poi lo affrontiamo meglio durante il corso per il momento ci basta sapere che l'elemento più generico possibile in html è l'elemento div che vuol dire un contenitore vedete che io ho appena creato il div vedete ancora che automaticamente visual studio code mi ha creato l'apertura e la chiusura all'interno della quale io posso inserire tutto quello che voglio e che cosa si fa di solito in questi casi si va a capo in modo da avere dello spazio all'interno del quale scrivere altri elementi avete capito bene gli elementi non devono stare per forza su una stessa singola riga ma possono occupare tranquillamente più righe del nostro foglio in questo caso automaticamente visual studio code mi è andato a capo e quindi abbiamo l'apertura la chiusura e tra l'apertura e la chiusura abbiamo una riga vuota che possiamo riempire a nostro piacimento addirittura possiamo andare a mettere tutte le righe che vogliamo questo qui è un elemento tranquillamente che può esistere senza nessun problema possiamo fare davvero quello che vogliamo per mantenere in ordine la nostra pagina col codice all'interno di questo elemento div noi possiamo andare a inserire un altro div riuscite a vedere guardate adesso io vado ancora a capo e creo un altro div guardate bene abbiamo un elemento all'interno di un altro elemento più grande all'interno di un altro elemento più grande vedete come con questo gioco di scatole cinesi abbiamo creato elementi all'interno di altri elementi ma possiamo anche decidere che all'interno di uno di questi elementi andiamo a crearne un altro ancora e poi un altro ancora e adesso vedete che cosa abbiamo fatto guardate facciamo anche così e facciamo in questa maniera guardate ok giusto per complicarci la vita facciamo in questo modo così lo vedete meglio andiamo a vedere che cosa abbiamo appena creato abbiamo appena creato un grande elemento al cui interno ci sono due elementi uno e due e all'interno di questi due elementi ne abbiamo tre nel primo e uno nel secondo avete visto questo gioco di scatole cinesi quindi elementi dentro elementi dentro elementi attenzione in questo modo è un pochino difficile andare a rendersi conto di dove inizia e finisce un elemento per esempio io qui dovrei controllare allora qui si apre un div fammi vedere dove si chiude a qui si chiude il div però attenzione perché questo sta chiudendo questo questo sta chiudendo questo questo chiude questo questo chiude questo e poi ancora questo chiude questo questo chiude questo e infine trovo il mio elemento di chiusura questo chiude il mio div iniziale beh questa cosa qua sicuramente rende la lettura della pagina molto complicata quando andiamo a scrivere immaginatevi una pagina con moltissimi di questi elementi e allora che cosa possiamo fare per risolvere il problema beh in realtà la prima cosa è più importante da fare andare a formattare un pochino meglio l'indentazione della pagina cioè possiamo utilizzare il tasto tab sulla tastiera quello che si trova sopra il blocco maiuscolo per intenderci per mandare avanti di un po' gli elementi che stanno dentro ad altri elementi guardate sto selezionando e sto premendo il tasto tab e in questa maniera ops ho sbagliato e in questa maniera io sono riuscito a dire al mio editor di testo questo vale per qualsiasi editor in realtà il browser non ha bisogno di questa cosa serve all'essere umano per essere più per facilitare la lettura non serve al computer ma io sto dicendomi ok attenzione che abbiamo un primo elemento qui che ne contiene altri due guardate col colpo d'occhio come facile riconoscerli che loro volte ne contengono il primo tre e il secondo uno vedete che andando all'interno di una di una riga meglio spostandosi di una colonna verso destra è molto più facile andare a leggere il codice html facciamo un'ipotesi un pochino più realistica facciamo che abbiamo un elemento contenitore vi ricordo che l'elemento div è il contenitore generico per eccellenza capiremo poi come funzionano nel dettaglio benissimo dentro questo elemento div voglio mettere un titolo di primo livello che chiamerò ciao sono andrea nel div successivo quindi nell'elemento successivo cancello e metto il sottotitolo un ragazzo estremamente bello benone ora voglio andare a creare sotto questo div un altro elemento div all'interno del quale metto un elemento p paragrafo questa è la mia vita se ho bisogno e lo dico ok vedete che in questo caso siamo andati oltre ma non importa vi faccio soltanto vedere togliendo un attimo il mio faccione che abbiamo anche qui vedete l'elemento di chiusura del paragrafo non è importante in questo momento capirlo la cosa fondamentale che dobbiamo capire che come vedete abbiamo inserito elementi dentro elementi dentro elementi guardate meglio abbiamo un contenitore generale all'interno del quale abbiamo un contenitore che contiene a sua volta un titolo un altro contenitore che contiene a sua volta il sottotitolo e un altro contenitore che contiene a sua volta un paragrafo andiamo a salvare questa pagina e andiamo a vederla nel browser apriamo il browser torniamo sulla nostra pagina sulla pagina che abbiamo realizzato la ricarichiamo ricordatevi di ricaricare ogni volta che fate delle modifiche perché se no il browser non è in grado di vederle ed ecco che noi abbiamo un elemento che adesso è invisibile non possiamo vedere il div perché un elemento generico che racchiude un titolo un elemento con un altro titolo e un elemento con il testo giusto per darvi un'idea vi faccio vedere una cosa adesso io aggiungo una cosina che voi non dovete capire non vi preoccupate ma che colorerà questi contenitori guardate lo faccio al volo voi non capite perché questa cosa qua la vediamo meglio dopo gli sto semplicemente dicendo metti un colore di sfondo rosso qui gli dico metti un colore di sfondo verde e qui gli dico metti un colore di sfondo ops dai lascia fare a me gli dico metti un colore di sfondo blu salvo torno sul browser e guardate se ricarico la pagina adesso vedo i miei elementi il primo elemento è quello rosso all'interno del quale c'è il titolo il secondo elemento è quello verde all'interno del quale abbiamo il sottotitolo il terzo e ultimo elemento è quello blu all'interno del quale abbiamo il paragrafo di testo eccoli qui li posso in maniera molto visiva riconoscere per farlo ho dovuto aggiungere delle scritte ai nostri tag che ora vado a cancellare per evitare di confonderci mi raccomando non è importante capirla perché questa cosa qua la vediamo bene più avanti nelle prossime lezioni la cosa fondamentale da vedere che abbiamo annidato una serie di elementi ripeto questa cosa qua possiamo farla all'infinito possiamo annidare sempre all'interno all'interno e vi ricordo che per entrare di un livello abbiamo utilizzato il tasto tab sulla tastiera oppure possiamo anche usare gli spazi di solito il tab corrisponde a due o quattro spazi possiamo fare la stessa cosa invece del tab possiamo tranquillamente utilizzare gli spazi in questo modo vedete io sto sempre entrando in questo caso non ha senso entrare così tanto mi devo fermare qua questa cosa la maggior parte degli editor di testo la faranno automaticamente al posto vostro creo gli elementi li annido al loro interno e li ordino indentandoli quindi spostandoli verso destra con il tasto tab in questa maniera io avrò la possibilità di gestire qualsiasi tipo di elemento all'interno della mia pagina web e adesso che abbiamo capito come funziona l'html andiamo a vedere alcuni elementi e quindi alcuni dei tag uno per uno non li vediamo proprio tutti quelli che compongono l'html ma vediamo i principali e proviamo a scoprirne il funzionamento rimandando via google per scoprire tutti gli altri e allora partiamo proprio da quello che abbiamo già incontrato diverse volte nelle lezioni precedenti partiamo cancellando questa pagina che abbiamo realizzato e cominciamo a parlare dell'elemento titolo ovvero l'h1 l'h1 io scrivo solo h1 e poi con invio lascio che sia l'editor di testo a completarlo l'h1 è l'elemento titolo di primo livello vuol dire il titolo più importante della nostra pagina web di solito l'elemento h1 all'interno di una pagina è uno e uno solo vuol dire che quello sarà considerato dal browser ma anche dal motore di ricerca ricordatevi questo aspetto come l'elemento più importante della pagina quello che ne determina il contenuto e allora noi andiamo a racchiudere in mezzo ai tag di apertura e di chiusura h1 la scritta titolo 1 andiamo a salvare apriamo il browser ricarichiamo la pagina ed ecco che abbiamo un titolo di primo livello ma non è l'unico tipo di titolo che noi possiamo andare a inserire all'interno di una pagina web perché abbiamo la possibilità di inserire titoli fino al sesto livello avete capito bene possiamo usare un h2 possiamo usare un h3 possiamo utilizzare un h4 e ancora un h5 e infine lo avete capito un h6 abbiamo appena scritto dei titoli che vanno dal livello 1 fino a livello 2 e che si distingueranno adesso li inserisco con del testo finto e che si distingueranno gli uni dagli altri fondamentalmente per la dimensione poi se volessimo elaborarli ulteriormente dal punto di vista del loro aspetto dovremmo utilizzare il css ma non rientra nel nostro corso vi ricordate che ne abbiamo parlato qualche lezione fa quindi ecco che abbiamo i sei titoli da h1 fino ad h6 e possiamo andare a vedere il loro aspetto ricarichiamo la pagina ed ecco qua i nostri titoli riuscite a vedere che l'h6 ma anche tutto sommato l'h5 sono piuttosto piccoli beh perché a furia di rimpicciolire di andare a un livello inferiore come importanza del titolo abbiamo dei titoli molto molto piccoli andiamo un pochino ad ingrandire questa scritta così li vediamo meglio ed ecco che al tag h1 eccolo lì corrisponde il titolo 1 vedete che il più grosso e poi abbiamo il tag h2 con il titolo 2 h3 con il titolo 3 e così via ne abbiamo a disposizione fino a 6 da h7 in poi non ci serve a nulla solitamente una pagina ha il titolo h1 come titolo principale e poi magari ha delle sottosezioni che può titolare con gli h2 e poi a loro volta queste sottosezioni hanno delle sotto sottosezioni che si possono che si possono titolare con l'h3 e così via fino ad arrivare al più piccino della famiglia l'h6 che raramente ho visto utilizzare in delle pagine web di solito per quella che l'esperienza di tutti i giorni diciamo che ci si ferma all'h4 all'incirca raramente si va oltre l'h4 ma è bene conoscere questa funzionalità e quindi come vedete eccolo qui abbiamo creato abbiamo appena creato i titoli della nostra pagina come vedete molto facile in tutti questi casi abbiamo il tag di apertura quello di chiusura ormai questa cosa qua non ve la ripeto più perché tanto sono sicuro che l'avete compresa bene e all'interno di tag di apertura e di chiusura abbiamo il contenuto del tag vero e proprio dell'elemento vero e proprio in questo caso il titolo molto facile dai diciamoci che il titolo lo avevamo già un pochino esplorato nelle lezioni precedenti un pochino per esperimento quindi ce lo teniamo lì sappiamo che possiamo usarlo e dobbiamo usarlo ogni volta che abbiamo bisogno di un titolo nelle nostre pagine web e andiamo a vedere il prossimo elemento un altro elemento che abbiamo già distrattamente incontrato nelle lezioni precedenti è l'elemento p che sta per paragrafo ma prima di andare a farvi vedere come funziona un paragrafo in html vi voglio far notare una cosa molto peculiare di questo linguaggio osservate una cosa se io scrivo del normale testo normale testo lo metto su più righe seconda riga ma non lo inserisco in nessuna elemento html guardate cosa succede nel momento in cui io salvo il documento e mi sposto sul browser ricarichiamo la pagina avete visto cos'è successo alle mie tre righe 123 avete notato che non è andato a capo l'html e si avete capito bene l'html non va a capo a meno che io non utilizzo dei tag degli elementi per ricordargli che deve andare a capo e quindi in questo caso lui mi tiene tutto sulla stessa riga facciamo così così si capisce meglio e guardate che cosa posso fare io posso creare un elemento p facciamo così p eccolo qua all'interno del quale tagliamola con un ctrl x vado a inserire la prima riga e poi crea un altro elemento p all'interno del quale vado a inserire la seconda riga e poi crea un ultimo elemento p all'interno del quale inserisco la terza riga avete visto che il mio editor me li ha chiusi tutti altrimenti se avete il classico blocco note dovete chiuderli voi manualmente vado a salvare con il ctrl s ricordatevi che senza salvare non si aggiornerà neanche il browser e vado a ricaricare la pagina voilà per farvi vedere che adesso abbiamo la riga 1 la riga 2 e la riga 3 mi ha riconosciuto le tre righe o meglio mi ha riconosciuto i tre paragrafi 1 2 e 3 mamma mia che calligrafia che calligrafia amici calligrafi non abbiatene male non abbiatene male mi dispiace questo è il meglio che posso fare ed ecco qua in questa maniera li vediamo a dimensione un pochino più normale in questa maniera funziona il paragrafo il paragrafo non fa altro che creare un paragrafo all'interno della mia pagina se eventualmente volessi provare un paragrafo un pochino più lungo posso andare ad esempio su lorem ipsum che è un servizio che mi va a creare a generare dei veri e propri paragrafi di testo fittizio generate lorem ipsum che io non devo fare altro che andarmi a copiare e incollare mi copio questo vado nel mio editor e al posto di prima riga metterò tutto quel testo lì vedete che il mio editor non va a capo per cui io mi ritroverò tutta la riga in questa maniera fino in fondo ricordatevi che ci deve sempre essere il eccolo qua il paragrafo il tag di chiusura e questa cosa qua è fondamentale andiamo a prendere un altro paragrafo lo copiamo tutto ctrl c torniamo qui ctrl v ecco fatto e infine un terzo e ultimo paragrafo inseriamo tutto all'interno delle mie p ecco qua salvo vado a ricaricare la mia pagina ed ecco qua i miei tre paragrafi come potete vedere un paragrafo un altro paragrafo e un ultimo paragrafo tutti ordinatamente messi uno sotto l'altro questo è stato ottenuto utilizzando il tag e l'elemento di conseguenza p e i più attenti e le più attente tra di voi avranno notato sicuramente che nel momento in cui utilizzo l'elemento p di paragrafo quando poi vado a guardare il risultato nel mio browser tra i vari paragrafi c'è giustamente un po di spazio questo perché aiutiamo l'occhio del lettore del visitatore del sito a orientarsi meglio all'interno dei vari paragrafi ma se io voglio soltanto andare a capo cioè io voglio andare a capo senza mettere questi spazietti tra un paragrafo e l'altro quindi voglio semplicemente fare quello che otterrei premendo il tasto a capo sulla tastiera che cosa posso fare beh posso utilizzare un altro elemento e qui troviamo il primo elemento che si auto chiude cioè un elemento che non ha bisogno del tag di chiusura facciamo così riga 1 riga 2 salviamo andiamo per sicurezza nel browser a controllare benone vedete lì sotto ve lo faccio più grande andiamo lì sotto vedete che riga 1 e riga 2 non sono non vanno a capo anche perché qui non sono andato a capo e guardate cosa posso mettere qui dentro posso mettere un elemento br che sta per break possiamo anche togliere lo spazio fra i due salviamo e andiamo a vedere nel browser cosa è successo ricarichiamo la pagina e guardate un po il br mi permette di andare a capo vedete che questa volta non c'è lo spazio che io vedo tra due paragrafi ma è semplicemente un normalissimo a capo addirittura io posso andare a capo all'interno di uno stesso paragrafo guardate poniamo di volere andare a capo in questo punto br e poi magari andiamo a capo qui dove c'è un altro punto br e poi vogliamo andare a capo ancora qui br vi ricordo che non va chiuso il br non c'è bisogno di chiuderlo è uno dei pochi che non ha bisogno di essere chiuso andiamo di nuovo sul browser vediamolo un pochino più da lontano ricarichiamo la pagina e guardate stesso paragrafo ma questa volta siamo andati a capo a capo qui a capo qui a capo qui vedete all'interno di un unico paragrafo con il br io gli dico letteralmente qui va a capo mi metti un invio il più delle volte quando questo codice lo si scrive di solito dopo il br si va a capo anche nel nostro editor di testo in questa maniera abbiamo un colpo d'occhio di tutte le nuove righe in questa maniera è molto più leggibile anche in questo caso io qua magari dovrei andare a capo in questo modo anche qui dovrei andare a capo e poi avevamo ancora un br no forse basta sì mi sembrava che ne avessimo fatto un altro mi ricordo male e a questo punto guardate cosa faccio mando a capo anche la p in questa maniera vedete come più leggibile questo paragrafo io riesco a vedere molto meglio che ho un elemento paragrafo e poi sfruttando il tab riesco a vedere che ci sono diverse righe all'interno del mio paragrafo perché perché come abbiamo già detto facciamo così come abbiamo già detto abbiamo il tag a capo un'altra specie di variazione del tag a capo potrebbe essere il tag hr che cosa fa il tag hr guardate aggiungiamo una riga numero 3 un'ipotetica riga numero 3 riga 1 riga 2 riga 3 andiamo sul browser ricarichiamo e guardate cosa abbiamo in mezzo tra la riga 2 e la riga 3 abbiamo una linea hr guardate mettiamo un hr in mezzo ai paragrafi hr e anche qui andiamo a capo e facciamo un hr salviamo torniamo sul browser ricarichiamo e in mezzo ai paragrafi abbiamo una linea separatrice un vero e proprio demarcatore questa cosa qua la facciamo con l'elemento hr quindi br per avere una nuova riga per andare a capo con una nuova riga hr per andare a capo con un separatore una linea orizzontale che occupa tutta la larghezza della pagina e che mi divide la sezione precedente da quella successiva e se volessimo utilizzare l'html per fare la formattazione del testo quindi per realizzare un testo in grassetto in corsivo oppure sottolineato abbiamo delle possibilità ma naturalmente sì ci sono degli elementi apposta in html che ci permettono di rendere il nostro testo formattato grassetto corsivo sottolineato andiamo nel nostro codice nella nostra pagina web solita a creare un paragrafo andiamo anche a capo così abbiamo più spazio per il nostro testo e scriviamo ad esempio questa è una parola in e come fare il grassetto è nulla di più facile perché ci basta utilizzare il tag b come sempre il tag aperto e chiuso per cui la procedura è sempre la stessa dal tag di apertura al tag di chiusura il nostro testo sarà in grassetto andiamo a scrivere in mezzo quindi a questi due tag scriviamo la parola grassetto virgola andiamo a capo tanto nella pagina web la capo non si vedrà ricordiamoci che gli a capo funzionano soltanto nel codice a meno che non andiamo a utilizzare il tag br facciamo questa è una parola in corsivo come si fa lettera i la b sta per bold e la i sta per italic che vogliono dire rispettivamente grassetto e corsivo virgola andiamo a capo questa è una parola sottolineata u che sta per underline sottolineata ricordiamoci tutto ciò che non vogliamo formattare di tenerlo fuori dai tag di apertura e di chiusura in questa maniera quindi abbiamo dentro le b il grassetto dentro le i il corsivo e dentro le u il sottolineato proviamo a salvare torniamo sulla nostra pagina web e ricarichiamola vediamo se ha funzionato perfettamente ha funzionato secondo le aspettative ed eccolo qua abbiamo il grassetto abbiamo il corsivo riuscite a vederli il grassetto è qui il corsivo è qui il sottolineato è qui vedete che in base ai tag che ho utilizzato ho ottenuto l'effetto di riferimento nella mia pagina web una piccola cosa che è bene raccontarvi è che in realtà il grassetto il corsivo si possono ottenere con altri due tag volendo creiamo un altro paragrafo e ve lo faccio vedere guardate posso utilizzare anche posso usare anche un altro tag facciamo così le parole un altro tag le mettiamo all'interno dell'elemento strong andiamo a facciamo così così lo vedete anche voi ecco qua tutto ciò che si trova dentro l'elemento strong è in corsivo così come mettiamo un line break br così possiamo andare a capo anche per il corsivo che facciamo con em che sta per emphasize anche per il corsivo ecco qua salviamo questo file e tutto ciò che si trova all'interno del tag strong apertura e chiusura come sempre oppure all'interno del tag em apertura e chiusura sarà in rispettivamente in grassetto e poi in corsivo andiamo a vedere se è vero ricarichiamo questa pagina ed eccoli qua vedete che abbiamo un altro grassetto e un altro corsivo eccoli qua quindi indifferentemente possiamo usare la b di bold e la i di italic oppure la strong di strong di forte e la m di emphasize in realtà per essere precisi ci sono delle piccole differenze fra l'utilizzo di uno e dell'altro ma per quello che riguarda questo corso in realtà possiamo tranquillamente trascurarle diciamo che se siete indecisi fra quali usare tendenzialmente la b vi darà soltanto esclusivamente il grassetto mentre lo strong potrebbe aggiungere degli altri dell'altra formattazione così come la i vi darà soltanto il corsivo mentre la em potrebbe aggiungere della formattazione aggiuntiva per quanto riguarda la u si può fare soltanto il sottolineato si può fare solo con la u tenete presente una cosa che di solito la tradizione vuole che la il sottolineato si utilizzi per i link quindi salvo eccezioni particolari non sottolineate mai nulla che non sia un link perché sennò le persone si potrebbero confondere e potrebbero cliccare quella parola che voi avete sottolineato pensando che sia un link vi dico anche che quando create il link solitamente il link è già sottolineato di default per cui non dovete essere voi a creare il link all'interno del tag u perché questa cosa qua avviene in automatico quindi basta creare un link vedremo successivamente come fare che sarà già automaticamente sottolineato quindi riassumendo questa lezione abbiamo la b per il grassetto la i per il corsivo la u per il sottolineato ricordiamoci sempre di chiudere i tag quando li apriamo anche con strong possiamo effettuare un sottolineato così come scusatemi un grassetto così come con em possiamo effettuare un corsivo e adesso è il momento di parlare di uno di quegli elementi fondanti di internet è una di quelle cose che letteralmente hanno creato il world wide web così come lo conosciamo oggi ovvero i link come si fa ad inserire un link in una pagina internet andiamo a vederlo subito andiamo a creare il solito paragrafo andando a capo così da avere spazio per scriverci al suo interno e l'elemento che definisce il link è semplicemente simboleggiato dal tag a non dobbiamo fare altro che scrivere una bella a questo è un link nulla di più facile e allora andiamo a scrivere per esempio questo è un link andiamo a salvare con un controllo s e andiamo a vedere cosa è successo nella nostra pagina ricarichiamola ecco fatto e ai 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 c'è qualcosa che non va questo link non è un link vedete che non è cliccabile non porta da nessuna parte e beh probabilmente i più attenti e le più attente tra di voi si saranno rese conto di qualcosa ovvero del fatto che non gli abbiamo detto dove deve portare questo link va bene che un link ma dove deve rimandare come fa lui a saperlo mi leggerà nel pensiero ma certo che no per dire dove rimanda un link dobbiamo aggiungere un piccolo concetto dobbiamo parlare degli attributi degli elementi che cosa sono gli attributi degli elementi sono delle coppie di chiave e valore che noi inseriamo all'interno dell'elemento non vi spaventate ve lo spiego subito che cosa vuol dire vuol dire che dentro gli elementi in questa zona qua quindi prima della chiusura della parentesi angolare noi possiamo inserire dei valori indicati in questo formato si mette uno spazio dal nome dell'elemento e si scrive chiave uguale in mezzo alle doppie virgolette valore attenzione quello che ho appena scritto in questo momento quindi la parola chiave la parola valore sono soltanto degli esempi che ci servono a capire che noi possiamo inserire una qualsiasi nome seguito dall'uguale e seguito da un valore che si trova fra virgolette fra doppie virgolette e quella cosa lì che noi inseriamo all'interno di un elemento verrà letta dal browser una volta che sappiamo quale chiave inserire e quale valore mettere all'interno della chiave ecco che possiamo aggiungere delle funzionalità agli elementi inclusa la funzionalità dell'indirizzo al nostro link e allora come si fa a mettere l'indirizzo al nostro link andiamo a cancellare questo esempio si fa con una chiave che si chiama o meglio con un attributo che si chiama href href uguale doppie virgolette aperte e chiuse e lì dentro ci andiamo a mettere il nostro indirizzo per esempio https due punti barra barra ciraolo punto me questo è un link dall'inizio alla fine quindi guardiamo tutti i passaggi con cui lo abbiamo creato prima di tutto abbiamo la come elemento poi facciamone un altro questo è un link perfetto riuscite a vedere che abbiamo l'elemento a per indicare il link all'interno dell'elemento si mette il testo del link quindi ciò che verrà visto dalle persone e poi come attributo href seguito da un uguale e tra virgolette il l'indirizzo al quale vogliamo rimandare molto importante mi raccomando che non ci siano degli spazi soprattutto prima e dopo l'uguale e le virgolette in questa maniera abbiamo costruito un link proviamo a salvare e andiamo a vedere nella nostra pagina che cosa è successo ricarichiamo scendiamo ed eccolo qua il nostro link in formato link facciamo una cosa cancelliamo questo via togliamo le cose in più così almeno lo vediamo da solo torniamo di qua perfetto ricarichiamo ed ecco qua il nostro link se io vado a cliccare questo link guardate che cosa succede vengo rimandato con la lentezza che contraddistingue la mia connessione internet vengo rimandato al sito internet ciraolo punto me perché perché questo è l'indirizzo che io ho dato al mio link vediamo se mi ha caricato quella pagina mannaggia che connessione eccolo qua eccolo qua questo orribile faccione torniamo indietro ma se io volessi aprire il link in un'altra scheda del browser quindi se invece di cliccare e andare subito nel sito volessi ottenere questo effetto vedete che ho aperto il link in un'altra scheda in questo caso l'ho fatto io manualmente in qualità di visitatore premendo con la rotellina del mouse sul link ma questa cosa in realtà noi possiamo forzarla e lo facciamo aggiungendo un altro attributo a questo link e sì perché ad ogni elemento noi possiamo aggiungere tutti gli attributi che vogliamo in questo caso guardate che cosa faccio aggiungo un attributo lo posso fare sia prima che dopo l'ordine degli attributi è del tutto irrilevante aggiungo un attributo che si chiama target uguale doppie virgolette come sempre e in questo caso devo inserire un valore specifico questo valore è underscore blank con questo attributo target underscore blank io sto dicendo al mio browser ogni volta che una persona clicca su quell'indirizzo apri l'indirizzo in una nuova scheda andiamo a vedere se è vero ricarichiamo la nostra pagina scendiamo fino sotto clicchiamo sul link con il tasto sinistro del mouse normalmente ed ecco che la pagina si è aperta in una nuova scheda ed ecco qua il mio sito internet quindi ricapitoliamo ricapitoliamo facciamo così guardate come vado a capo anche con questo elemento in modo da vederlo tutto bene per intero come funzionano i link lo creiamo con l'elemento a che dobbiamo aprire e dobbiamo andare a chiudere tra il tag di apertura e il tag di chiusura mettiamo il testo che viene mostrato ai visitatori della pagina web e all'interno dell'elemento a mettiamo un attributo href uguale e tra doppie virgolette inseriamo l'indirizzo dove vogliamo rimandare le persone se poi non è detto che lo desideriamo ma se vogliamo fare in modo che ogni volta che le persone cliccano sul link gli si apre una nuova scheda del browser allora aggiungeremo l'attributo target uguale blank attenzione osservate come ho utilizzato gli spazi quindi ricordatevi sempre che gli attributi devono essere staccati dal nome dell'elemento ovviamente devono venire dopo quindi prima di tutto ci va il nome dell'elemento e poi gli attributi a loro volta separati da uno spazio ma non separati con lo spazio dall'uguale vedete questa parte qua deve essere tutta attaccata così come deve essere tutta attaccata questa parte qua e il cui ordine è del tutto irrilevante non cambia nulla li potete mettere nell'ordine che volete tanto il browser li legge tutti questo è il modo che si usa in html per creare i link e se avete capito come funzionano i link non avrete difficoltà a capire come funzionano le immagini il ragionamento è molto molto simile c'è una grossa differenza dell'elemento immagine rispetto alla maggior parte degli altri elementi vi ricordate quando vi parlavo degli elementi che si auto chiudono come per esempio hr come per esempio br quegli elementi che non hanno bisogno del tag di chiusura perché sono completi con un singolo tag quello diciamo così di apertura che diventa contemporaneamente di chiusura beh l'immagine fa la stessa identica cosa per inserire un'immagine nella nostra pagina html ci basta un singolo tag che si apre e si chiude da solo questo tag che si trova sempre all'interno delle due parentesi angolari si chiama img con questo tag abbiamo creato l'elemento immagine andiamo quindi a salvare la pagina e andiamo a vedere cosa si vede nel browser ma se avete seguito con attenzione la lezione precedente sapete che vi sto fregando perché provo a ricaricare la pagina ed effettivamente non si vede nessuna immagine da queste parti beh vi lascio un secondo per pensare su quale possa essere la ragione eh sì eh sì avete indovinato eh beh ho messo un elemento immagine ma non gli ho detto che immagine deve farmi vedere e allora il browser non mi può leggere nel pensiero e dire ma sì probabilmente vuoi mettere l'immagine della regina elisabetta eh no glielo devo indicare e come glielo indico glielo indico con un attributo in questo caso l'attributo che voglio inserire vi ricordate all'interno delle parentesi angolari lasciando uno spazio dal nome dell'elemento beh l'attributo che voglio utilizzare in questo caso si chiama src che sta per source uguale doppie parenti doppie virgolette vi ricordo che tutti questi attributi soprattutto per gli elementi più frequenti li trovate su internet ci sono gli elenchi di tutti gli elementi e degli attributi vi ricordo di cercare cheat sheet in questo caso trovate anche queste informazioni e ora che cosa gli dico qui dentro c'è una volta che io ho definito la mia source che cosa gli vado a dire beh si dà il caso che io abbia sul desktop questa bellissima scimmia tutti dovrebbero avere sempre una scimmia a portata di mano e io la mia scimmia la vado a inserire nella stessa cartella del sito internet eccola qui abbiamo da un lato il file index.html dall'altro abbiamo un file che si chiama gorilla.jpg questa è l'immagine che voglio inserire nella pagina internet e allora spostiamoci nel nostro codice e qui se il file immagine si trova nella stessa cartella del mio file html mi basta inserire il nome del file non devo fare altro guardate gorilla tra l'altro vedete che il mio editor di testo me lo riconosce già me lo trova punto jpg nulla di più facile vado a salvare questo file torno sul mio browser ricarico la pagina ecco che comparsa un'immagine e i più attenti e le più attente tra di voi avranno notato sicuramente un piccolo inconveniente ovvero il fatto che questa immagine non ha proprio le dimensioni idonee quelle che ci si aspetterebbe da un'immagine su una pagina web è un tantino troppo grande come risolviamo questo problema beh prima di tutto è importante dirci che su internet è bene caricare delle immagini leggere cioè nel momento in cui carichiamo l'immagine facciamo in modo che questa immagine non sia troppo pesante non superi qualche kilobyte di peso e se l'immagine è troppo grossa possiamo utilizzare strumenti come web resizer per esempio ma ce ne sono tantissimi che trovate online dove semplicemente caricate un'immagine e lui ve la ottimizza vedete diminuendone la dimensione in questo caso l'area impicciolita del 78 per cento effettivamente funziona devo dire che ho testato e funziona ne trovate molti di strumenti come questo vi basta fare una ricerca online quindi prima cosa dobbiamo avere dei file ottimizzati che non siano troppo pesanti ma a questo punto se vogliamo andare a lavorare comunque tramite html sulla dimensione dell'immagine beh quello che possiamo fare in questo caso è aggiungere un ulteriore attributo è sempre lì sempre con gli attributi otteniamo i risultati del resto i risultati si ottengono sempre usando gli attributi e allora che cosa dobbiamo fare in questo caso aggiungere l'attributo width cioè larghezza uguale doppie virgolette e qui dentro indichiamo un valore in pixel potrebbe anche essere un valore in percentuale ma in questo caso per semplicità indichiamo un valore in pixel che potrebbe essere 100px osservate che non c'è nessuno spazio tra il 100 e i pixel mi raccomando gli spazi il più delle volte sono nemici dell'html quindi abbiamo indicato anche il valore di larghezza salviamo il file torniamo al nostro browser ricarichiamo l'immagine ed ecco che la nostra immagine è perfettamente integrata nella pagina vi faccio notare che una volta indicata la larghezza il browser l'html indica di conseguenza l'altezza per mantenere le proporzioni intatte quindi rimpicciolisce anche l'altezza sulla base di quanto è rimpicciolito la larghezza se io volessi però decidere che le proporzioni non devono più rimanere intatte allora potrei indicare anche l'altezza aggiungo un attributo che si chiama 8 uguale doppie virgolette ipotizziamo di voler dire 200 200 pixel salviamo la pagina torniamo sul browser e guardate adesso la nostra immagine a 100 pixel di larghezza e 200 pixel di arte di altezza vedete che è stata strecciata è stata allungata ha perso le sue proporzioni originarie quindi nulla non è stata tagliata ma è stata allungata sulla base delle indicazioni che gli ho dato il più delle volte o si indica la larghezza che è la cosa più frequente oppure eventualmente l'altezza non si indicano tutte e due in modo che l'altro valore si regoli di conseguenza quindi che cosa facciamo adesso andiamo a cancellare questa altezza andiamo a salvare di nuovo e questo ricarichiamo la pagina e questo è il nostro elemento immagine direi perfettamente funzionante quindi ripetiamo l'elemento immagine si chiude da solo non ha bisogno del tag di chiusura si chiama img e poi utilizza l'attributo search src per andare a trovare il file con l'immagine ed eventualmente l'attributo width per andare a indicare la larghezza dell'immagine stessa lo si indica in pixel senza spazi in mezzo c'è un'ultima cosa però che voglio precisare adesso era relativamente facile andare a trovare il file perché ce lo avevamo nella stessa cartella del nostro file html ma se così non fosse come ci si comporta facciamo una prova facciamo una prova ipotizziamo che in questo sito web noi abbiamo una cartella con tutte le immagini la chiamiamo immagini ci mettiamo dentro il nostro gorilla torniamo sul browser proviamo a ricaricare la pagina e ai 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 non c'è più la nostra immagine vedete che mi viene indicato un bel errore perché perché io gli sto dicendo vai a trovare la pagina l'immagine nella stessa cartella del file html perché non ho dato alcuna indicazione in questo caso io devo dirgli vai nella sottocartella slash file quindi vedete che gli indico un percorso relativo che parte sempre dalla cartella dove si trova il file html e gli dico da lì dentro vai nella cartella immagini e poi nella cartella immagini cerca il file gorilla.jpg in questo modo lui è in grado di andare a trovare il file nella cartella adatta ricarichiamo ed ecco che ha funzionato ma attenzione io potrei anche non volergli dare un percorso relativo perché magari il mio file si trova proprio in un'altra cartella per esempio prendiamo il solito gorilla e spostiamolo sul desktop eccolo qui ce l'abbiamo qui sul desktop mettiamolo qua in vista e a questo punto torniamo sul browser facciamo sempre la controprova ricarichiamo non si trova più nella cartella immagini slash gorilla ma si trova sul desktop e allora che cosa posso fare vado a prendere l'indirizzo assoluto del desktop vediamo se me lo ha copiato come spero e lo vado a inserire nel mio source non me lo ha copiato per intero vediamo se riesco a prenderlo a prenderlo facciamo così facciamo così ecco fatto gli indico ingrandiamo togliamo sito ecco fatto adesso abbiamo preso tutto l'indirizzo che si trova nell'hard disk c nella cartella users nella cartella andrea che è quello del mio utente nella cartella desktop e infine ecco qua il file vegli abbiamo dato un indirizzo assoluto cioè che parte proprio dall'origine del mio hard disk quindi gli ho dato l'indirizzo completo del mio file andiamo a salvare vediamo se riesco a salvare ecco fatto e andiamo a vedere se ha funzionato rimpiccioniamo un po così lo leggiamo meglio ecco qua andiamo a vedere se ha funzionato andiamo a ricaricare la pagina ebbene sì ha funzionato vedete in questo modo io ovunque ho dei file sul computer posso andarli a pescare e se questo file si trova invece su internet su un indirizzo internet qualsiasi come possiamo comportarci facciamo una prova nulla di più semplice andiamo su google su google scriviamo gorilla e andiamo a scegliere un altro gorilla andiamo nelle immagini questo lo trovo molto amichevole prendo questa immagine tasto destro copia indirizzo no copia indirizzo dell'immagine voilà copio l'indirizzo dell'immagine posso anche aprire l'immagine in un'altra scheda guardate con il tasto destro in questo modo io vedo esattamente l'indirizzo web di quella specifica immagine questo è il luogo su internet dove si trova questa immagine così amichevole è lo stesso indirizzo che ho copiato prima ricopiamolo da qua tasto destro copia naturalmente lo selezioniamo tutto e adesso questo indirizzo lo andiamo a infilare indovinate un po dove ma proprio qui cancelliamo tutto e incolliamo tutto l'indirizzo vediamo se riesco a farvelo vedere per intero questo è molto lungo ecco fatto image source molto lungo con l'indirizzo completo che in questo caso non parte dalla c del mio computer ma parte da internet https infatti due punti barra barra eccetera 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 e poi gli indichiamo comunque la larghezza per non farci mancare niente andiamo a salvare il nostro file torniamo sul browser torniamo sulla pagina web ricarichiamo ed eccola qua ha preso l'immagine da internet e l'ha inserita nella nostra pagina web se io faccio da qui tasto destro apri immagini in un'altra scheda mi ritrovo di nuovo l'immagine originale vedete che è la stessa questo lo possiamo chiudere abbiamo la stessa immagine che avevamo prima vedete identica perché perché questa immagine non si trova sul mio hard disk non si trova nello stesso spazio del mio sito web ma è un'immagine esterna che io sono andato a prendere da internet e così è come si inseriscono le immagini in html una volta che avete appreso questi concetti quindi il tag immagine l'attributo source che vi andate a prendere con un indirizzo assoluto o relativo gli indirizzi possono essere sia web che legati all'hard disk del vostro computer e infine potete indicare eventualmente la larghezza con l'attributo width e se al posto di un'immagine vogliamo inserire un video nella nostra pagina html che cosa possiamo fare non è troppo complicato non è troppo complicato bisogna fare qualche passaggio in più rispetto all'immagine ma è fattibile abbiamo un video nella cartella del nostro sito web che si chiama ciraolone.mp4 vediamo come fare ad inserirlo all'interno della nostra pagina l'elemento di cui abbiamo bisogno si chiama video a differenza dell'elemento immagine vedete che ha bisogno del tag di apertura e del tag di chiusura il nostro editor di testo ci viene incontro completandoci già in automatico il tag di chiusura andiamo a capo in modo da avere un po di spazio all'interno di questo elemento perché ci dobbiamo mettere un pochino di cose al suo interno la prima cosa però che vado a fare prima ancora di inserire il contenuto del video qui dentro l'elemento beh la prima cosa che vado a fare è indicare la larghezza desiderata del mio video ancora una volta io indico solo la larghezza in modo che l'altezza si adatti di conseguenza e quindi così come ho fatto con l'immagine vado a indicare un valore di width con un attributo nell'elemento video di 200 pixel molto bene adesso all'interno del mio video faccio una cosa prima di tutto scrivo una frase che le persone leggeranno nel caso in cui il loro browser non soppo non supporti il video per esempio il tuo browser non supporta i video sorry ok questa frase che io attenzione ho inserito all'interno dell'elemento video sarà quello che leggeranno le persone nel caso in cui il video non gli funziona e adesso prima di questa frase quindi vado ancora una volta dentro all'elemento devo aggiungere un altro elemento questa è una piccola complicazione ulteriore del dell'elemento video ma una volta che lo abbiamo compreso non sarà troppo difficile questo ulteriore elemento dentro l'elemento si chiama source a differenza dell'immagine che ha l'attributo src nell'elemento stesso img ve la faccio rivedere vi ricordate bene il caso del video bisogna inserire all'interno dell'elemento un altro elemento source che a sua volta avrà l'attributo src uguale ed è qui che andiamo a prendere il nostro video le regole per prendere il file video sono le stesse che abbiamo già visto nella lezione precedente con le immagini quindi non vi ripeto i percorsi relativi quelli assoluti se nella stessa cartella se un'altra cartella se su internet tutto questo lo sappiamo già fare in questo caso possiamo risparmiare tempo andando a prendere direttamente il file ciraolone punto mp4 andiamo a salvare e andiamo a vedere se è successo qualcosa vediamo vediamo cos'è successo andiamo nel nostro sito web eccolo qua ricarichiamo la pagina e vediamo un po' effettivamente qualcosa c'è qualcosa c'è vi faccio notare che non è andato a capo perché non abbiamo messo nessuna interruzione di linea ma non si vede assolutamente nulla perché perché mancano i controlli per comandare il video come si fanno inserire i controlli quindi il tasto play il tasto avanti la barra di scorrimento lo si fa all'interno dell'elemento padre l'elemento video mi raccomando non fate confusione tra video e source purtroppo alcune cose si inseriscono sopra nel padre alcune si inseriscono nel figlio e allora qui nell'elemento padre andiamo ad aggiungere attenzione a questo dettaglio una cosa che non avevamo ancora visto un attributo che ha soltanto la chiave senza valore quindi in poche parole in questo caso andiamo a scrivere la parolina magica controls senza mettere l'uguale e il testo tra virgolette ci basta semplicemente dirgli controls che vuol dire mettimi i controlli a questo video vediamo se ha eseguito i nostri le nostre indicazioni ed effettivamente sì ecco che il nostro video adesso ha i controlli per essere comandato proviamo a fare play funziona funziona e che video signori e che video questo è un video di altissima qualità che probabilmente può concorrere a diversi festival europei e mondiali del cortometraggio e guardate come lo abbiamo inserito nella nostra pagina web quindi ricapitoliamo questa è la base per inserire un video poi vediamo qualche precisazione però ciò di cui abbiamo bisogno è un elemento padre genitore che si chiama video che apriamo e che andiamo a chiudere a questo elemento attribuiamo un valore di larghezza with con l'attributo with e indichiamo con un attributo senza uguale di dare di mettere controlli al nostro video questo attributo si chiama controls all'interno dell'elemento andiamo a mettere un ulteriore elemento che si auto chiude e si chiama source che a sua volta è proprio quello che ci consente di inserire l'attributo src così come nelle immagini ed è qui che andiamo a dirgli dove prendere il nostro video infine indichiamo subito dopo l'elemento source una frase standard che vedranno le persone nel caso in cui il video non funziona in quanto non supportato dal loro browser così gestiamo i video ancora un paio di precisazioni beh la prima precisazione che è bene di solito è buona norma nell'elemento source aggiungere un ulteriore attributo che si chiama type in questo attributo type andiamo a specificare il tipo di video che abbiamo caricato quindi il formato del file fondamentalmente non è necessario nella maggior parte dei casi ma è sempre bene fare questa precisazione in modo che il nostro video sia compatibile con più browser possibili e in questo caso andiamo a scrivere il tipo di video è video barra questo è lo slash quello sopra il 7 mp4 ed ecco qui abbiamo indicato una precisazione ulteriore un'altra cosa utile da dire che molto spesso si usano più elementi source magari perché si ha lo stesso video caricato in diversi formati per esempio potremmo utilizzare anche il formato il formato ogg in modo che il nostro sistema operativo il nostro browser scelga il formato più idoneo al suo funzionamento quindi in questo modo noi gli stiamo dicendo scegli tu quello che più adatto al tuo utilizzo un'altra cosa che vi voglio segnalare che noi possiamo in alcuni casi con l'attributo autoplay far partire il video automaticamente attenzione perché non tutti i browser supportano la funzione autoplay di solito per mantenere la serenità del visitatore l'autoplay viene disabilitato dai browser però in alcuni altri invece può funzionare e quindi possiamo decidere di mantenere questa funzione eventualmente mettendo il video in muto in modo che parta con più probabilità cosa vuol dire vuol dire che se è vero che molti browser disabilitano l'autoplay è anche vero che molti browser lo riabilitano quando il video è muto perché vuol dire che noi possiamo mettere un'immagine in movimento come se fosse una gif ma non disturbiamo l'utente con dei suoni che potrebbero essere fastidiosi in questo caso con diversi browser invece funziona facciamo una prova mettiamo soltanto autoplay nel nostro browser chrome ricarichiamo la pagina e vedete che il video non è partito vediamo se vi dico la verità non ho provato vediamo se con il muted funziona ricarichiamo la pagina e vedete che sì in questo caso il video è muto e in effetti è partito attenzione che io posso eventualmente decidere di togliere i controlli quindi lanciare il video in automatico lanciarlo silenzioso ed impedire alle persone di interagire col video guardate ricarichiamo ancora la pagina ed ecco che il video è partito io non posso cliccare da nessuna parte vedete non posso fermarlo il video sta andando in continuazione e io non faccio niente ed è così che funzionano i video andiamo ad annullare questa ultima variazione così vedete tutto vi potete fare anche un bello screenshot ricapitoliamo ancora una volta elemento video elemento source larghezza del video eventuali opzioni del nostro video i controlli sono quelli più importanti per poterlo lanciare eventualmente possiamo anche mandare in autoplay e in muto il nostro video all'interno dell'elemento source abbiamo l'attributo src per andare a pescare il video vero e proprio e l'attributo type per indicare la tipologia di file che abbiamo indicato infine è bene indicare con una frase che cosa leggeranno le persone se il video non è supportato e adesso parliamo di liste e visto che tutti amano le liste visto che le liste sono alla base della nostra civiltà beh è molto semplice inserirle all'interno di un file html andiamo a creare un paragrafo e da un po che non creavamo paragrafi quindi lo facciamo così almeno abbiamo qualche a capo e manteniamo le cose un pochino in ordine nel nostro nella nostra pagina andiamo a scrivere per esempio lista della spesa due punti andiamo a capo quindi mettiamo un br ok se no ricordatevi che il browser non andrà a capo e qui andiamo a inserire è molto semplice in realtà vedrete che questo sarà uno dei capitoli più facili di tutto il corso andiamo a inserire l'elemento lista elemento lista si chiama ul cosa vuol dire ul vedete che si apre si chiude con il suo tag di chiusura ul vuol dire unordered list unordered lista non ordinata ovvero elenco puntato nel momento in cui abbiamo pronta la nostra lista andiamo a inserire tutti gli elementi della lista certo potremmo fare tranquillamente così latte biscotti mettere anche ibr in questo modo però così non stiamo facendo una vera e propria lista html per farlo dobbiamo inserire gli elementi lista gli elementi lista si chiamano lì eccolo qua si apre e si chiude ed è qui che andiamo a mettere il nostro latte andiamo a mettere i nostri biscotti andiamo a mettere il cioccolato ops non elemento cioccolato ma bensì cioccolato ultimo una cosa salutare facciamo questa volta perché sennò è tutta roba troppo insomma diseducativa facciamo patatine fritte così mettiamo anche la verdura nella nostra alimentazione giustamente perfetto quindi ora che abbiamo creato la nostra lista della spesa in html andiamo a vedere andiamo a vedere se questa si vede nel browser andiamo nel browser ricarichiamolo e abbiamo la nostra meravigliosa lista della spesa con un elenco puntato ecco qua tutti i punti del nostro elenco andiamo a ricapitolare quello che abbiamo fatto ve l'ho detto che sarebbe stato facile abbiamo inserito l'elemento ul con apertura e chiusura ricordatevi che questo è un tag che si apre si chiude e all'interno dell'elemento ul abbiamo inserito una serie di elementi lì che a loro volta vanno aperti e chiusi mi raccomando è apertura chiusura e il testo sempre all'interno dei tag ed è così che abbiamo realizzato la nostra la nostra bella lista in realtà non è non c'è nulla in più da dire se non che magari noi non vogliamo un elenco puntato ma vogliamo un elenco numerato come facciamo in questo caso beh facciamo così aggiungiamo un paragrafo diamo un titolo facciamo questa volta classifica degli alimenti che fanno bene due punti ecco fatto andiamo a capo e ora come facciamo a creare un elenco numerato beh se l'elenco puntato era ul unordered list quello numerato è o l ordered list e poi funziona allo stesso modo adesso fatemi pensare degli alimenti che fanno bene io direi mettiamo il lì naturalmente quindi stesso identico concetto non serve mettere i numeri e li metterà lui quindi alimenti che fanno bene io direi mcdonald's lo metterei primo in classifica andiamo a capo mettiamo un'altra lì facciamo patatine in sacchetto poi io direi anche qualcosa che faccia bene particolarmente direi kebab come lo vedete kebab mi sembra una buona scelta e poi facciamo un altro alimento beh dimenticato la pizza dimenticato la pizza scusate la pizza virustel e patatine se vi piace la pizza virustel e patatine c'è qualcosa che non va nella vostra vita lasciatevelo dire ma è una scelta le scelte non sono discutibili andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto quindi stesso identico procedimento di prima o l e abbiamo poi i lì i vari lì all'interno dei quali ci sono i testi attenzione non abbiamo inserito noi i numeri i numeri saranno inseriti dal browser perché riconoscerà l'elenco come un elenco numerato andiamo a vedere se è vero ricarichiamolo e voilà ed ecco qua la nostra classifica degli alimenti che fanno bene fanno bene al fisico e fanno bene soprattutto allo spirito vedete che in un caso io non ho dovuto inserire i puntini perché sono stati inseriti automaticamente dall'html nell'altro non ho inserito i numeri perché è stato ancora una volta l'html che ha fatto questa cosa al posto mio se io volessi cambiare lo stile dei puntini e magari mettere il trattino mettere il puntino bianco vuoto eccetera 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 quella cosa lì la facciamo col css che vi ricordo non è una cosa che vediamo adesso ma vedremo successivamente per cui sappiate soltanto che eventualmente potete cambiare lo stile dei puntini col css e basta vi avevo detto che sarebbe stato rapido indolore questo è il modo con cui realizziamo le liste con l'html una cosa magica che ci consente di fare l'html soprattutto quello più moderno è avere la possibilità di incorporare elementi esterni nella nostra pagina web è una cosa che in realtà vediamo fare tutti i giorni quando visitiamo i siti internet pensiamo per esempio ai video di youtube embeddati embed è il verbo in inglese lo so che i grammar nazi si arrabbieranno se dico embeddare embeddare sinonimo di incorporare bene embeddati all'interno di una pagina internet oppure pensiamo ai tweet o ancora ai post di instagram quelli di facebook insomma ogni volta noi vediamo un elemento esterno incorporato embeddato nella pagina web questa cosa si fa con la procedura che vi sto per mostrare l'elemento che ci permette di fare questa cosa si chiama elemento i frame è un elemento vedete che al suo interno può contenere una serie di cose che in questo momento non ci interessano quello che ci interessa sapere che i frame è una specie di cornice frame un contenitore all'interno del quale possiamo mettere qualsiasi cosa possiamo anche mettere un altro sito internet possiamo mettere un sito internet dentro alla cornice dell'eframe dentro alla nostra pagina web avete capito la potenza di questo strumento in realtà non ci serve però in questo momento per brevità studiarci come funziona l'eframe perché tutto quello che ci serve sapere che questo strumento ce lo forniscono già la stragrande maggioranza delle piattaforme facciamo un esempio concreto andiamo su youtube andiamo a prendere questo meraviglioso video di questo tizio che non mi sembra molto raccomandabile 11 estensioni per google chrome che non dimenticherai facilmente come facciamo a inserirlo nella nostra pagina web beh in questo caso clicchiamo su condividi e clicchiamo su incorpora eccolo qui e ci verrà già fornito tutto il codice dell'elemento iframe che vogliamo inserire nel nostro sito prendiamo questa cosa qua la copiamo la inseriamo nel nostro nella nostra pagina nella nostra pagina web guardate cosa facciamo per vederlo meglio usiamo anche qualche a capo si può andare a capo anche all'interno dei tag in questa maniera sarà molto più ordinato e riusciremo molto più facilmente a vedere che cosa abbiamo appena incollato tutto questo è un iframe facciamo così e andiamo a capo con la chiusura e voilà guardate come lo abbiamo formattato in maniera più ordinata vedete questo è il tag di apertura vedete che qui c'è una parentesi angolare e qui c'è un'altra parentesi angolare all'interno del quale abbiamo ottenuto più ordinatamente tutti gli attributi è sempre la stessa cosa e poi abbiamo il frame il tag di chiusura non abbiamo fatto nessuna modifica abbiamo semplicemente copiato e incollato quello che ci ha fornito youtube vediamo se funziona salviamolo andiamo nel nostro solito e amato sito web eccolo qui ricarichiamolo e in questo caso perché non ce l'ho preso forse non l'abbiamo salvato risalviamolo ricarichiamolo ed eccolo qua ed eccolo qua vedete che avevo selezionato io questa roba la trovo comodissima perché con le tante ricerche che faccio abbiamo il nostro sito il nostro video perfettamente embeddato eventualmente potrebbe valere la pena magari diminuire un pochino la larghezza in questo caso mettiamo un 200 cancelliamo l'altezza di questo iframe salviamo vediamo se in questo modo è un pochino più gestibile ecco fatto direi che così va molto molto meglio dire che se io clicco premo il tasto invio ed ecco qua proviamo a fare la stessa cosa con una tweet la stessa cosa si fa con qualsiasi altro social network cosa facciamo prendiamo un tweet qualsiasi tre pallini incorpora il tweet e guardate ci viene fornito un codice in questo caso utilizza un altro elemento che non è live frame non cambia nulla va benissimo lasciamo decidere a lui quello che vuole utilizzare torniamo nella nostra pagina magari mettiamo anche un ops mettiamo un elemento paragrafo copiamo incolliamo in questo caso ci ha copiato incollato tante altre cose non importa non è importante sto soltanto mettendolo un po in ordine facciamo così ci ha copiato addirittura uno script javascript in questo caso non importa mettiamo tutti in ordine vedete che sto usando il tab per avere le cose ordinate facciamo così questo qua lo mettiamo a capo e questo qua anche ok più o meno più o meno più o meno dovremmo essere riusciti a ordinare il nostro il nostro elemento vedete piano piano si impara a riconoscere in questo caso che cosa ha deciso di fare twitter per far incorporare i suoi tweet nei siti web ha deciso di far creare un elemento block quote che è quello per le citazioni per le quote all'interno del quale c'è un paragrafo seguito da un link vedete dentro il paragrafo c'è il testo del tweet e poi tutte queste cose vengono trasformate in un iframe tramite javascript quindi tramite un linguaggio di programmazione tramite uno script non non importa capirlo a noi basta fare copia e incolla andiamo di nuovo nella nostra pagina ricarichiamo ed ecco qua che abbiamo il nostro tweet che prima vediamo se riesco a farvelo vedere che prima ormai me lo ha caricato vediamo se riesco niente che prima lo avete visto magari tornati indietro di qualche secondo nel video che prima era stato inserito come testo normale con un link e poi tramite uno script è stato fatto diventare un tweet ora io vi dico la verità sono meno esperto del lato twitter quindi non so benissimo come potremmo andare a elaborarne l'aspetto grafico magari si fa direttamente da qui vedete customization e qui potremmo andare eventualmente a modificare alcuni aspetti di questa di questa importazione in questo momento non ci interessa quello che ci serve sapere che lo abbiamo importato quindi di fatto nella maggior parte dei casi in cui vogliamo importare e imbeddare delle cose dall'esterno le piattaforme le piattaforme ci forniscono già il codice che noi vogliamo semplicemente andare a copiare e incollare eccoli qua vedete copiamo incolliamo e siamo a posto e se fino ad ora ci siamo concentrati e concentrate sull'html è arrivato il momento di fare una piccola puntatina un accenno un po superficiale al css vi ricordo che abbiamo detto che se l'html è quel linguaggio che si occupa della struttura degli elementi di una pagina web il css è invece quel linguaggio che si occupa dell'aspetto estetico della forma di come vengono rappresentati gli elementi che abbiamo inserito nella pagina e parlare di css è un argomento lungo è un argomento grosso richiederebbe una trattazione a sé un corso specifico corso che faremo peraltro successivamente ma in questo momento ci servono un paio di informazioni utili per capire il funzionamento di un attributo un attributo che noi possiamo aggiungere a qualsiasi elemento e che ci consente di modificarne la forma in ogni sua caratteristica questo attributo si chiama style facciamo un esempio andiamo a creare un paragrafo andiamo a capo in modo da avere un po di spazio andiamo a inserire qualche parola caso salve a tutti e tutte come state io scrivo cose a caso scrivere cose a caso mi riesce benissimo e diciamo che anche dire cose a caso me non mi riesce mica male è una mia caratteristica andiamo a salvare questo questo elemento andiamo a salvare la pagina e andiamo a vedere sul nostro browser cosa è successo vedete che saltiamo sempre tra il browser e il nostro editor di testo per vedere sempre quelle che sono poi le variazioni alla pagina web ed ecco qua vedete che effettivamente il nostro paragrafo è stato scritto perfetto sembrerebbe funzionare al meglio benone e come possiamo andare a modificare l'aspetto di questo paragrafo in ogni sua caratteristica torniamo al nostro editor di testo e come attributo nel paragrafo quindi sempre all'interno della parentesi angolare e lasciando uno spazio prima del nome dell'elemento mettiamo l'attributo style scritto in questa maniera con la y col solito uguale doppie virgolette e attenzione che dentro queste virgolette ci possiamo mettere letteralmente non sto esagerando il mondo possiamo mettere qualsiasi valore del linguaggio css e voi direte e quali sono questi valori io non lo conosco mica il linguaggio css beh in questo momento non ci serve saperlo vi basti sapere che come al solito css cheat sheet su google e trovate numerosissimi elenchi di tutti di tutte le proprietà css che possiamo inserire adesso noi ne vedremo soltanto un paio due tre quattro per avere un'idea ma guardate quante sono guardate quante possiamo utilizzarne benone una volta che abbiamo capito che su google troviamo tutto quello che ci serve torniamo sul nostro editor di testo e vi faccio un esempio un primo esempio se io qui dentro scrivo color due punti red salvo attenzione che in questo caso questo quadratino rosso mi è stato aggiunto dall'editor di testo voi non lo vedrete se non usate un editor evoluto come il mio visual studio code e guardate che cosa succede poi vi spiego bene cosa ho scritto andiamo a vedere la nostra pagina dove eccola qua ricarichiamola guardate lì sotto tadan avete visto cosa è successo al colore del testo è diventato rosso perché è diventato rosso perché io gli ho detto guardate qui cosa ho detto attributo style e in mezzo alle virgolette ho dato una chiave seguita dai due punti e un valore questa chiave è la chiave color che definisce il colore del testo e questa è una cosa che dobbiamo o ricordarci a memoria o andare a guardare di volta in volta nei nostri fogli riepilogativi in questo caso gli ho detto dammi il colore rosso red questo lo posso indicare come parola una la parola di un colore oppure posso anche utilizzare i famosi codici html che mi permettono di trovare qualsiasi colore ma in questo caso non ci serve entrare così tanto nel tecnicismo ci basti sapere che chiave rivediamolo chiave due punti valore mi permette di modificare un parametro estetico del mio elemento attenzione che questo stile si applica esclusivamente a questo paragrafo perché all'interno di questo paragrafo è stato inserito e naturalmente si applica anche a tutti i sotto elementi gli elementi annidati qui dentro che in questo momento non ci sono e se io volessi aggiungere un altro parametro volessi aggiungere degli elementi degli elementi visivi a questo parametro che cosa potrei fare nulla di più facile vado a mettere un punto e virgola e proseguo con altri parametri per esempio back ground trattino alto color due punti che colore scegliamo scegliamo un yellow facciamo un yellow green guardate che il mio editor mi suggerisce già dei colori quindi yellow green che è molto più carino salvo andiamo a ricapitolare quello che abbiamo fatto all'interno di style abbiamo messo chiave due punti valore seguito da un punto e virgola che separa tutte le coppie chiave valore seguito a sua volta da un'altra chiave due punti valore una volta che avete capito il meccanismo voi vi andate a prendere vi andate a prendere gli elenchi di chiave che potete utilizzare per esempio per il background avete background image background position repeat attachment origin color che quello che abbiamo utilizzato potete utilizzare guardare i bordi quindi come vado a gestire i bordi degli elementi potete modificare il font font style font variant eccetera eccetera il testo e così via vedete tutti 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 questi valori sono quelli che voi potete inserire nel css e guardate cosa è successo alla mia pagina web quindi gli abbiamo detto colore red rosso colore di sfondo background color yellow green che quella specie di verdino mezzo verde mezzo giallo andiamo a prenderci la nostra pagina eccola qua ricarichiamo e voilà guardate il mio elemento paragrafo ha lo sfondo verdino e il colore del testo rosso così è come funziona l'attributo style andiamo a fare ancora qualche prova per esempio per esempio aggiungiamo degli ulteriori elementi ora se vogliamo mantenere le cose un pochino più ordinate possiamo utilizzare qualche a capo e sugli a capo bisogna stare un pochino attenti a non confondersi però insomma dopo un po di pratica si riesce a utilizzarli bene considerate che l'html non vede gli a capo vi ricordate che noi possiamo fare tutti gli a capo che vogliamo tanto lui non se ne accorge e allora li possiamo sfruttare per mantenere le cose in ordine per esempio andiamo a capo qui andiamo a indentare con un tab e andiamo a capo qui ed ecco qua e poi andiamo a capo anche ops ho sbagliato e poi andiamo a capo anche qui perfetto in questa maniera noi abbiamo lo stesso identico testo ma riusciamo a leggerlo un pochino meglio con gli a capo in questo modo siamo sicuri di non confonderci quando andiamo a inserire diversi parametri all'attributo style andiamo a mettere quindi il punto e virgola dopo yellow green ricordatevi di non utilizzare gli spazi in questo caso utilizzate soltanto gli a capo in realtà potreste mettere gli spazi l'html lo leggerebbe lo leggerebbe lo stesso però per non saperne leggere né scrivere voi in questa fase non usate di così almeno non vi confondete un altro parametro che voglio inserire quello legato alla larghezza per esempio gli voglio dire larghezza due punti 50 per cento mettiamo già il punto e virgola così non ce lo dimentichiamo per voi andiamo a salvare e adesso che cosa ci aspettiamo ci aspettiamo di vedere il testo rosso lo sfondo giallo verde e la larghezza di quell'elemento il 50 per cento di tutta la pagina non è tanto importante che capiate come funziona il css vi serve solo sapere che con l'attributo style potete andare a modificare ogni parametro così almeno sapete come funziona questo questo aspetto vi linko comunque nella descrizione eventuali approfondimenti così che se vedete questo video prima che io ho pubblicato l'approfondimento sul css vi lascio qualcosa di esterno invece se lo vedete dopo vi linko direttamente l'approfondimento sul css così almeno siete a posto e ve lo andate a guardare andiamo a vedere cosa è successo nella nostra pagina quindi larghezza 50 per cento torniamo nella pagina ricarichiamo e voilà vedete anche voi che il mio elemento paragrafo occupa esattamente il 50 per cento della pagina vedete è largo la metà andiamo a fare un'altra prova andiamo a fare un'altra prova andiamo a modificare anche l'altezza quindi height voi dite ma come fai a sapere che l'altezza si modifica con height la larghezza con width il colore con color beh sono cose che dopo un po ci si ricorda memoria le prime volte ve le andate a guardare su google ogni volta hanno fatto così tutti non vi spaventate supponiamo un'altezza di 500 pixel salviamo mettiamo il punto e virgola e salviamo vi faccio notare che in questo caso abbiamo usato un'altezza in pixel una larghezza in percentuale in realtà nel caso della altezza è un po più complicato usare la percentuale perché la percentuale è sempre riferita alla larghezza della pagina anche nel caso dell'altezza quindi non incasiniamoci non importa quello che ci serve notare qui è che abbiamo usato in un caso la percentuale nell'altro caso i pixel andiamo a vedere che cosa è successo nella pagina ricarichiamola come sempre e guardate un po questo elemento è alto 200 pixel vedete andiamo ad abbassarlo leggermente se no rischiamo di non vederlo facciamo magari un 250 pixel e mettiamo l'ultimo l'ultimo parametro che usiamo ma che stiamo usando soltanto come esempio che il parametro di margin in questo caso gli diciamo mettimi come margine superiore inferiore destro e sinistro il valore che indichiamo e potremmo indicare per esempio potremmo indicare che so io facciamo il 25 per cento in questo modo ecco qua salviamo in questo modo che cosa gli stiamo dicendo fammelo largo il 50 per cento e mettimi un margine a sinistra e a destra del 25 per cento quindi più o meno ci aspettiamo di trovarcelo al centro del foglio adesso al centro della nostra pagina in questo caso il margine prenderà tutte le direzioni sopra destra sotto sinistra perché stiamo usando semplicemente il valore di margin diversamente avremmo potuto utilizzare margin left per esempio con il trattino alto e in questo caso gli stiamo dicendo mettimi il margine soltanto a sinistra del 25 per cento andiamo a salvare con il margine andiamo a vedere cosa è successo nella nostra pagina ricarichiamo e voilà ed ecco qui che vedete che abbiamo un margine del 25 per cento a sinistra a destra 25 larghezza del 50 e margine del 25 perché abbiamo usato valori percentuali abbiamo un margine del 25 per cento anche di sopra e abbiamo infine un margine del 25 per cento anche qui sotto ed eccolo qua vedete forse ancora troppo alto 250 pixel facciamolo alto facciamolo alto 100 pixel ci dovrebbero bastare salviamo e andiamo a vedere il nostro risultato finale ed ecco qua guardate abbiamo un riquadro con lo sfondo verde con il colore rosso con il margine del 25 per cento c'è un ultimo dettaglio dai che voglio proprio rovinarmi ancora un piccolo dettaglio notate quanto il testo sia vicino al al bordo di questo di questo elemento vedete che è molto adiacente aggiungiamo un po di spazio tra il testo e il bordo dell'elemento questa cosa si fa con un altro ulteriore parametro questo parametro è il parametro padding andiamo a capo padding due punti diamogli un 15 pixel quindi pc pixel va benissimo vedete che in questi casi ho messo degli spazi è la forza dell'abitudine dopo i due punti possiamo decidere di mettere o di non mettere gli spazi non cambia molto diciamo che tendenzialmente tutte le regole legate agli spazi agli a capo servono più per avere un foglio ordinato per noi che per l'html che di fatto queste cose quasi non le nota andiamo a vedere se il nostro padding ha funzionato dai andiamo a dare un'occhiata ci spostiamo sul nostro foglio sulla nostra pagina ricarichiamo o non ha funzionato andiamo a scoprire perché perché non è funzionato proviamo a ricaricarlo proviamo ad aggiungere una cosa vediamo un attimo se funziona così ecco fatto ecco fatto ha funzionato ha funzionato in questo caso vediamo se avevo soltanto sbagliato a scrivere proviamo a togliere così poi vi dico vi do la conferma di qual era il problema ok ok avevo soltanto sbagliato a scrivere quindi non fate caso a tutto quello che ho fatto successivamente adesso ce l'ho appreso adesso vedete che è questa cosa qua la lascerò nel corso senza tagliare anche questi piccoli errori per farvi capire come quando si programma con questi strumenti inevitabilmente ogni tanto ci sono degli errori ci sono delle cose che non capiamo ci sono delle robe che non ci tornano nulla di più normale il lavoro di chi programma di chi sviluppa che sia web o che sia o che non sia web è rompersi la testa e capire perché una determinata cosa non ha funzionato in ogni caso vedete che adesso abbiamo impostato il nostro padding torniamo nella pagina e vedete che abbiamo posto un bordo tra il testo o meglio il contenuto dell'elemento e il suo bordo e il suo margine direi di fermarci qui sull'aspetto di css e di styling degli elementi l'unica cosa importante da ricordare che all'interno dell'elemento possiamo usare all'interno di qualsiasi elemento possiamo utilizzare un attributo style e andando a prendere il codice css che ci prendiamo da internet possiamo andare a modificare l'aspetto del nostro elemento in ogni singolo dettaglio ricordatevi che vi trovate su internet gli elenchi degli attributi che potete utilizzare gli elenchi dei parametri che potete indicare al css sono tantissimi e ognuno di questi fa delle cose differenti non potete impararli tutti a memoria anche se i principali poi a un certo punto ve li ricorderete e una volta che avete appreso questa cosa semplicissima poi approfondiamo la questione css vedrete che ci sono cose molto potenti che si possono fare ma non adesso beh una volta che avrete appreso questa cosa semplicissima la vostra capacità di fare delle pagine html non solo efficaci ma anche belle da vedere ha subito un bellissimo boost e adesso iniziamo a fare sul serio perché quando il gioco si fa duro anche i duri cominciano a giocare facciamo sul serio perché trattiamo un elemento tra i più importanti in assoluto quando si parla di html ma che abbiamo dovuto aspettare un po prima di parlarne perché dovevamo prima acquisire alcune competenze dovevamo capire bene certi meccanismi e solo ora che abbiamo capito bene come funziona in generale in generale html siamo pronti siamo pronte per parlare dell'elemento div l'elemento div è uno dei più importanti e anche dei più usati in html perché è l'elemento contenitore generico il div è un contenitore completamente vuoto e senza nessuna caratteristica estetica all'interno del quale possiamo mettere qualsiasi cosa in html inclusi altri div annidati all'interno di altri div all'infinito per poi dargli una forma grazie al css cioè grazie allo style che abbiamo visto in precedenza facciamo qualche esempio creiamo il nostro contenitore div lo chiudiamo andiamo a capo così da avere spazio ormai queste cose le avete capite e dentro questo div ci mettiamo un altro elemento che cosa potremmo metterci ci mettiamo un h1 andiamo a mettere un titolo di primo livello andiamo a scrivere il nostro titolo questo è un contenitore salviamo la pagina e spostiamoci sul browser ricarichiamo la nostra pagina scendiamo in basso ed ecco qua il nostro titolo di primo livello un h1 e voi direte giustamente sì ma io questo div non lo vedo mi sembra uguale al titolo di primo livello che abbiamo fatto all'inizio all'inizio questa roba qua mi sembra assolutamente la stessa cosa e dite bene e dite molto bene è proprio questo il concetto del div il div è un contenitore vuoto lo andiamo a elaborare con il con l'utilizzo del css dell'attributo style facciamo una prima prova andiamo qui spostiamoci qua e andiamo a inserire all'interno del div l'attributo style uguale mettiamo le virgolette iniziamo col dargli un background color ecco qua usato l'abbreviamento l'abbreviazione dell'editor di testo scegliamo un cadet blu guardate com'è bello background color cadet blu lo abbiamo fatto all'interno del div attenzione salviamo spostiamoci nel browser ed ecco che il nostro div ha preso un colore molto bene torniamo nella pagina sapete cosa facciamo lo sapete cosa facciamo questo h1 mettiamolo dentro un altro div a sua volta quindi andiamo a capo creiamo un altro elemento div andiamo a capo ulteriormente prendiamo l'h1 lo selezioniamo tutto lo tagliamo con il ctrl x e lo infiliamo qui con il ctrl v molto molto bene ora abbiamo un h1 dentro un div dentro un altro div salviamo andiamo a vedere se è successo qualcosa ci aspettiamo delle modifiche rispetto a prima no perché abbiamo detto che il div che abbiamo creato è un contenitore neutro quindi è rimasto tutto come prima molto bene e allora che cosa possiamo fare in questo secondo div andiamo a dargli uno style e scegliamo un altro colore gli diamo un background color e andiamo a scegliere vediamo un pochino se ci da qualche suggerimento guardate che bello questo coral scegliamo il colore coral molto bene mettiamo un punto e virgola mettiamo uno spazio così almeno manteniamo un po di uniformità direi che finora è tutto chiaro salviamo torniamo nella pagina e vediamo che cosa ci aspettiamo di vedere secondo voi di che colore sarà a questo punto tutto il contenitore sarà blu sarà arancione o sarà un po blu e un po arancione vediamo di scoprirlo ricarichiamo la pagina sarà arancione perché è diventato tutto arancione se di fatto io gli ho detto quello blu contiene quello arancione beh tutto sommato non è difficile arrivarci è accaduta questa cosa perché il contenitore l'elemento arancione è completamente contenuto dentro quello blu e quindi noi di fatto vediamo soltanto quello che sta dentro che è l'arancione che prende tutto lo spazio del blu che cosa possiamo fare per evitare questa cosa beh se avete seguito bene le lezioni precedenti potete immaginare che possiamo utilizzare un parametro di padding nel contenitore più grosso oppure un parametro di margin in quello più piccolo per lasciare un po di spazio esterno in questo modo far vedere lo sfondo dell'altro contenitore di quello superiore proviamoci andiamo a capo qui nel contenitore più piccolo facciamo in questa maniera e aggiungiamo del margin facciamo margin 30 pixel ci piace facciamo 30 pixel salviamo torniamo di là ricarichiamo la pagina e avete visto ci rimane del margine ve lo faccio vedere anche dietro il mio faccione eccolo qui vedete abbiamo del margine a destra e a sinistra in questo caso non abbiamo margine superiore e inferiore perché l'html lo considera finito quindi lui dice è inutile cioè rispetto a cosa ti metto del margine non c'è più niente non ci sono cose sopra e cose sotto se a destra e a sinistra abbiamo il bordo della pagina sopra e sotto lui considera che non c'è nulla queste sono piccole cose a cui poi piano piano si fa l'abitudine e non ci si dà più peso se vogliamo risolvere questo problema possiamo cancellare il margin e utilizzare invece un padding nell'elemento superiore facciamo così proviamo padding due punti 30 pixel vi ricordo che margin è il bordo esterno mentre lo spazio esterno mentre il padding è quello interno torniamo qui ricarichiamo e voilà e abbiamo questa volta i nostri 30 pixel da tutti i lati ora noterete sicuramente che questo spazio è diverso da questo e perché probabilmente ha aggiunto lui in autonomia alcuni margini alcuni spazi bisognerebbe essere più raffinati per ottenere esattamente la stessa distanza ma in questo caso non ci interessa suppongo che abbia aggiunto il margine dell'elemento h1 non ne sono neanche così sicuro bisognerebbe un po' investigare ma non è questo il senso guardate come abbiamo ottenuto in questo caso un contenitore dentro un contenitore ma andiamo avanti andiamo avanti e dopo questo div quello che contiene l'h1 andiamo a creare un altro div div benissimo andiamo a capo e questa volta ci mettiamo un paragrafo questo è un contenitore dentro al contenitore che contiene un paragrafo benissimo ecco qui quello che abbiamo scritto andiamo a salvare benissimo torniamo nel nostro browser ricarichiamolo e voilà abbiamo un paragrafo in un contenitore che si trova qui vedete quello che adesso vi ho evidenziato è il contenitore il div che noi abbiamo creato che però non vediamo e che prende quindi le caratteristiche del suo genitore vedete del div superiore andiamo ancora una volta a modificarne lo sfondo così capiamo sto usando sempre la modifica dello sfondo per farvi capire il concetto poi è chiaro che questa cosa non si fa solo per avere delle degli elementi con gli sfondi diversi ma si può usare per modificare il carattere per modificare il colore del font insomma per modificare la dimensione per fare tutta una serie di cose che adesso per brevità non andiamo a vedere quindi aggiungiamo lo style anche dentro questo div e mettiamo un background color guardate che io vado un po più veloce scegliamone uno che ci piace vediamo è un bel colore questo fuxia o gold facciamo un bel gold golden road guardate che carino golden road andiamo a salvare torniamo sulla nostra pagina ricarichiamola e guardate un po abbiamo il padding dell'elemento superiore vi ricordate gli abbiamo dato tutto lo spazio dal bordo in questa maniera abbiamo il primo div e abbiamo il secondo div vi faccio ancora qualche esempio soltanto per farvi capire come funzionano queste cose andiamo a mettere il padding anche agli altri due div vedete che adesso questi due div hanno così poco spazio tra il testo e il bordo ok andiamo ad aumentare il padding anche in questo caso facciamo padding 2.15 pixel e facciamo anche qui è meglio andare a capo così riusciamo a vederlo meglio ecco fatto e facciamo padding 2.15 pixel salviamo tutto questo torniamo nella pagina ricarichiamo e voilà guardate come siamo riusciti a giocare con questi elementi adesso abbiamo perso guardate abbiamo perso lo spazio qui andiamo a recuperarlo di nuovo dai forse avete capito come poter procedere in questo caso no andiamo a recuperarlo prendiamo il div superiore quello col titolo h1 e aggiungiamo un margin bottom due punti usiamo i 30 pixel gli stessi 30 pixel che abbiamo usato prima 30 pixel salviamo e adesso io mi aspetto che tra questo elemento e questo elemento ci sia uno spazio di 30 pixel perché gli ho detto questo elemento distanziamelo di 30 pixel ecco fatto di 30 pixel in basso andiamo a vedere se ricaricando la pagina questa cosa succede ricarichiamo ed ecco qua vedete come stiamo costruendo l'aspetto della nostra pagina esattamente in base alle nostre esigenze questa cosa si può fare grazie all'elemento div quindi in questo modo giocando con i div e con lo stile dei div io posso andare a modificare qualsiasi aspetto della struttura della della disposizione degli elementi nella mia pagina esattamente in base alle mie esigenze questa cosa si fa con l'elemento div e adesso parliamo di un altro elemento contenitore neutro quindi senza nessuna caratteristica ma che a differenza del precedente quindi dell'elemento div che viene rappresentato a blocchi cioè occupa tutto lo spazio a sua disposizione beh in questo caso il nostro elemento è un elemento in linea in line cioè lavora sulla specifica linea di testo su una porzione di testo e io dico linea ma in realtà il testo può anche andare a capo stessa cosa beh andiamo a vedere l'elemento che si chiama span attenzione span con la n di napoli finale non con la m come la pubblicità indesiderata vediamo come funziona andiamo a creare un paragrafo come sempre andiamo a capo così abbiamo spazio e scriviamo del testo magari prendiamoci del testo che avevamo già lo copiamo e lo incolliamo qui dentro perfetto mettiamo anche qualche a capo così da poterlo vedere meglio prendiamoci ancora un po di testo per esempio questo lo infiliamo qui sotto così abbiamo sempre un po di spazio mettiamo sempre gli a capo vedete come gioco con gli a capo che tanto l'html non vede per avere ben visibile la mia parte la mia parte di testo esattamente come serve a me adesso che cosa vogliamo ipotizzare ipotizziamo che vogliamo evidenziare questa riga cioè evidenziarla con uno sfondo giallo come se fosse un tratto di evidenziatore che cosa possiamo fare andiamo a creare l'elemento span lo creiamo a mandando a capo tutto il resto prendiamo questa riga la tagliamo con un control x la mettiamo all'interno dell'elemento span il punto ce lo riportiamo vedete alla fine ma fuori dall'elemento span vedete dove abbiamo messo il punto così almeno ci evidenzia soltanto il testo e non il punto e andiamo a vedere cosa è successo nella nostra pagina prima di tutto salviamo quindi torniamo nella pagina ricarichiamola benone abbiamo un testo ma come vedete non c'è nessuna riga evidenziata non c'è niente di evidenziato perché perché abbiamo racchiuso questa frase dentro un elemento neutro ma non gli abbiamo attribuito nessuno stile ormai avete capito come funziona la questione dello stile giusto andiamo a vedere andiamo a vedere prendiamo il nostro span e aggiungiamo un attributo style uguale vediamo se vi immaginate che cosa possiamo mettere all'interno di questo style per avere uno sfondo giallo e quindi come se fosse evidenziato a questo elemento vi lascio qualche secondo intanto io sistemo un pochino con gli a capo mentre voi ci riflettete vedete come giochiamo con gli a capo per avere sempre le cose in ordine tanto l'html la capo non lo capisce non è in grado di leggerlo e quindi possiamo usarlo per avere in ordine il nostro testo bene che attributo dobbiamo mettere qui quale parametro inseriamo dai che ci siete arrivati e arrivate mettiamo un background color e diamo un yellow come valore eccolo qui guardate un po salviamo torniamo nella nostra pagina ricarichiamolo e voilà abbiamo la nostra riga la nostra porzione forse più corretto dire di testo evidenziata attenzione questa porzione di testo sarà evidenziata anche nel momento in cui va a capo dobbiamo farlo andare a capo ecco fatto guardate abbiamo stretto la pagina web il browser in modo che andasse a capo e vedete che il mio span mi prende esattamente la porzione di testo che io ho indicato qualsiasi parametro io indicherò nell'attributo style funzionerà in questa porzione di testo possiamo per esempio modificare il colore del testo modificare il font potremmo aggiungere del dello spazio con del padding questo però comporterebbe un po di diciamo qualche struttura grafica perché se non modifichiamo poi anche gli spazi delle altre parole rischia di esserci disomogeneità insomma abbiamo la possibilità di lavorare a questo a questo elemento specifico di testo in maniera molto raffinata facciamo un altro esempio mettiamolo grassetto guardate giochiamo ancora con gli a capo con l'indentazione facciamo così molto bene e potremmo usare l'elemento b o strong per il grassetto ma in questo caso voglio usare ancora un altro un'altra modalità così vedete anche che in html css la stessa cosa si può fare in tanti modi diversi guardate che cosa ho appena fatto ho aggiunto il parametro font weight come dire il peso del font e gli ho indicato che lo voglio bold cioè lo voglio grassetto torniamo quindi nella nostra pagina web ah no questa qua la dobbiamo prima salvare ricordiamoci sempre di salvare vediamo se me lo ha preso perché mi sembra che si sia impallato ecco fatto sì lo ha preso lo ha preso andiamo a vederlo meglio eccolo qui togliamo il mio faccione vedete che questo testo adesso non solo è stato sottolineato di giallo ma ha anche la caratteristica del grassetto utilizzando lo span su determinate porzioni di testo noi possiamo modificarli in base al nostro piacimento facciamo un'ultima prova dai un'ultima prova ci spostiamo qua e includiamo nello span anche questa parte di testo creiamo un nuovo span span inseriamo tutto questo questa volta ci mettiamo dentro anche il punto ctrl x ctrl v manteniamo sempre tutti li a capo in ordine così da non incasinarci facciamo in questa maniera molto bene mettiamo l'attributo style uguale virgolette andiamo già a capo ormai tanto l'abbiamo capita questa cosa e qui dentro ci mettiamo ci mettiamo una font size quindi dimensione del testo lo facciamo di 10 pixel dovrebbe essere un pochino più piccolo del testo attuale salviamo e andiamo a vedere cosa è successo ricarichiamo la pagina e guardate un po abbiamo il nostro testo con il primo span evidenziato e grassetto il secondo span con un testo più piccolo vedete il risultato anche in questo caso se io vado a giocare sulla dimensione della pagina in modo da fare andare un po a capo gli elementi facciamo così ecco qua vedete che lui non ha cioè lui non vede la riga o non la riga lui vede soltanto la porzione di testo vedete che qui ne abbiamo uno che è andato a capo e qui abbiamo l'altro che è andato a capo ipotizziamo dai ultimissima veramente ultimissima ipotesi in questo secondo in questa seconda porzione di testo mettiamo anche un color quindi vi ricordate cos'è il color colore del testo hot pink guardate che bello già il nome hot pink mi fa impazzire facciamo così torniamo nel browser ricarichiamo ed ecco qua che il nostro testo è diventato non solo più piccolo ma è diventato hot pink quindi per riassumere per riassumere se il div è l'elemento contenitore la scatola vera e propria che riempie tutto lo spazio che può riempire che può contenere contenere al suo interno diversi altri elementi lo span invece un contenitore che prende soltanto una porzione di testo e al suo interno solitamente classicamente c'è proprio soltanto del testo in questa maniera noi possiamo andare a formattare il testo che scriviamo nelle pagine web ancora una volta in maniera estremamente raffinata e visto che il gioco si è fatto duro noi che siamo di duri abbiamo cominciato a giocare beh la situazione della nostra pagina html e del nostro codice html potrebbe essersi fatta complicata effettivamente così se fino adesso abbiamo guardato il codice molto ingrandito e quindi non ci siamo resi e rese conto perfettamente di tutto il codice che abbiamo già scritto guardate cosa succede se rimpiccioliamo un po la dimensione del carattere andiamo a riguardare tutto quello che abbiamo realizzato e beh c'è da dire che è proprio tanta tanta roba che ve ne pare e come si può fare per tenere più ordinato questo codice al di là dell'aspetto di sistemare il testo con gli a capo e con il tasto tab e soprattutto come possiamo fare a inserire all'interno di questo testo degli appunti che ci serviranno magari successivamente magari quando rileggeremo quel codice in futuro oppure se rileggerà se leggerà quel codice qualcun altro che non siamo noi un nostro collega una nostra collega beh fortunatamente l'html ci mette in mano uno strumento perché ci consente di inserire nella nostra pagina dei commenti i commenti sono una porzione di pagina che non si vedrà nella pagina finale ma che vedremo soltanto noi nel nostro codice html come si fa a inserire un commento nell'html guardate andiamo all'inizio della pagina andiamo di nuovo ad ingrandire il testo in modo da leggerlo bene e tra il titolo numero 1 e il titolo numero 2 scriviamo un ciao giusto per assicurarci che questo ciao poi si veda nella pagina andiamo quindi nella pagina web ricarichiamo ed ecco che il nostro ciao si vede normalmente tra il titolo 1 e il titolo 2 torniamo nel nostro html e questo ciao lo andiamo a cancellare e guardate che cosa che cosa inseriamo nella pagina parentesi angolare aperta punto esclamativo doppio trattino superiore e poi per chiudere doppio trattino superiore parentesi angolare chiusa questa roba qua è quella che noi utilizziamo per i commenti in html quello che vediamo è lo strumento commento qui dentro quindi tra l'apertura e la chiusura di questa specie di elemento non è un vero e proprio elemento è letteralmente un commento bene qui in mezzo noi possiamo metterci tutto quello che vogliamo e quindi proviamo a scrivere ciao salviamo la pagina torniamo sulla nostra pagina web ricarichiamo e il ciao è scomparso attenzione un piccolo dettaglio se io vado a vedere il codice della pagina occhio che il ciao si vede per cui quello che scriviamo non è segreto è possibile vederlo andando a sbirciare il codice quindi attenzione a non scrivere informazioni riservate ma nella maggior parte dei casi e per quello che è l'utilizzo normale di una pagina tutto quello che noi scriviamo come commento non sarà visto e allora come può essere utilizzata questa funzionalità beh potrebbe essere utilizzata per esempio per indicare a noi stessi le posizioni di alcune sezioni della pagina per esempio che ne so io testata poi vedete che il mio editor conclude sempre il commento corpo della pagina e poi ancora andiamo qua call to action e così via torniamo nella nostra pagina ricarichiamola e guardate che le cose che ho inserito non si vedono da nessuna parte vedete che tutti i commenti che io ho aggiunto non si vedono in nessun modo perché a questo servono i commenti un altro piccolo dettaglio che potrebbe utile essere utile scoprire perché i commenti possono anche andare a capo io potrei tranquillamente fare così vado a capo e in mezzo a questi due simboli posso scrivere tutto quello che voglio ed ecco qua salvo questo lungo commento che impiega più righe torno nella mia pagina ricarico e del commento nessuna traccia se faccio control u ecco che vedete il commento invece in tutta la sua interezza tutto per esteso tutto completo è molto utile utilizzare i commenti per mantenere ulteriore ordine e ulteriore chiarezza in quello che abbiamo fatto ricordatevi che quello che adesso voi può sembrare se avete seguito bene questo corso un codice relativamente semplice quando andrete a rivederlo magari dopo un anno non vi ricorderete più che cosa avevate pensato che cosa avevate fatto o perché lo avete fatto e allora avere un commento ci aiuta a fare chiarezza anche nel futuro quando andremo a riprendere in mano il nostro codice tra l'altro vedete che l'editor di testo ci permette di evidenziare il commento lo vediamo verdino in questo caso per esempio una cosa che io faccio molto spesso è magari che ne so io facciamo così magari quando vado a prendermi per esempio una un'indicazione quando non so fare qualcosa e la trovo su internet come spiegazione io che cosa faccio nel commento mi scrivo una roba tipo ponte e vado a incollare il link che ho trovato in questa maniera io so dove ho preso quel metodo quella strategia quella funzionalità che ho inserito all'interno della mia pagina so dove l'ho trovata così so eventualmente dove andare a controllare se quella stessa cosa mi sta dando degli errori insomma i commenti sono una funzionalità molto molto utile insieme agli a capo e al tasto tab all'indentazione vi invito a usarli sempre di più per mantenere il vostro codice html bello pulito e ordinato e finalmente finalmente siamo pronti per prendere la nostra bella paginetta html e metterla online e considerarla effettivamente un sito vero e proprio e prima di farlo però dobbiamo ragionare su alcuni ultimi aspetti legati alla struttura che deve avere la pagina nella sua interezza nel senso che adesso abbiamo guardato fino adesso abbiamo guardato gli elementi specifici per creare delle cose nella nostra pagina ma in realtà ci sono degli elementi contenitore ancora più grossi che sono molto importanti da tenere in considerazione perché all'interno di quelli andremo a mettere tutto quello che abbiamo imparato fino adesso quindi elementi contenitore all'interno dei quali c'è tutto quello che abbiamo visto finora andiamo a vedere di che si tratta la prima cosa che dobbiamo fare quando creiamo una pagina html e indicare il doc type si fa semplicemente con questo codice quindi aperta parentesi punto esclamativo doc type scritto tutto maiuscolo e poi html perché il nostro documento è un documento html e quindi chiusa parentesi angolare in questa maniera noi diremo al browser che il file che sta per leggere è un file html non ci serve sapere altro semplicemente all'inizio di ogni pagina html mettiamo questa informazione esattamente così come la vediamo tant'è che vi faccio notare che google per dire andiamo a fare ctrl u all'inizio vedete della sua pagina a doc type html andiamo a prendere wikipedia per esempio giusto per citare due siti molto famosi ctrl u e vedete che anche wikipedia comincia con il doc type html facciamo la stessa cosa semplicemente o guardati codici delle pagine con il ctrl u semplicemente noi iniziamo ogni documento con questa con questo piccolo codice ora dobbiamo creare degli elementi che si usano in tutte le pagine html degli elementi ricorrenti che ci sono sempre il primo elemento contenitore è proprio l'elemento html lo apriamo lo chiudiamo andiamo a capo e questo è l'elemento che conterrà l'intera nostra pagina web tutto quello che abbiamo scritto fino ad oggi fino ad adesso tutto tutto questo testo tutto questo codice sarà tutto contenuto dentro l'elemento html ma non è finita qui all'interno dell'html ci sono due elementi e sempre due gli stessi sono gli elementi head testa e body corpo quindi ricapitoliamo ogni singola pagina html ha il doc type indicato all'inizio nella riga sotto ha l'apertura dell'elemento html la chiusura dell'elemento html e all'interno dell'elemento html avrà sempre un head e un body testa corpo tutti i documenti html quelli scritti in maniera corretta sono fatti con questo criterio naturalmente anche gli elementi head e body hanno delle cose al suo interno vi dico subito partiamo dalla fine che l'elemento body è quello che contiene tutto il corpo della pagina quindi tutto il codice che abbiamo scritto tutto quello che abbiamo scritto fino adesso lo selezioneremo lo taglieremo e lo inseriremo dentro il body ma prima andiamo a vedere l'head a che cosa serve l'head da non confondere con l'header cioè la testata del sito web quella è un'altra cosa il l'elemento head è quello che raccoglie tutte quelle informazioni utili al browser ma che non vengono viste dall'utente tutto quello che mettiamo nell'head non viene mostrato all'utente ma viene usato dal browser vi faccio soltanto un esempio il tag l'elemento title l'elemento title è quello che ci permette di dare il titolo alla nostra pagina quello che sarà mostrato qui in alto nella tab vedete che in questo caso noi vediamo il nome del file index.html beh se andiamo a indicare il title nel nostro documento ecco che lo vedremo come titolo della pagina facciamo una prova la mia prima pagina html questo è il titolo della pagina andiamo di nuovo nel browser ricarichiamo e attenzione guardate come è cambiato eccolo qui come è cambiato il titolo della pagina il titolo della scheda in alto quella scritta non la vedo da nessuna parte nella pagina non c'è la vede soltanto il browser e attenzione la vede anche google quindi è utile scriverla per benino vedete che non c'è nessun posto mentre eccoci qua mentre qui sopra ce l'abbiamo ok quindi tutto quello che sta nel head in particolare il title né un esempio serve al browser come informazioni rispetto rispetto alla pagina stessa andiamo adesso qui a mettere un commento e ci scriviamo contenuto così facciamo un piccolo ripasso di come funziona la struttura di ogni pagina web abbiamo prima di tutto per in apertura abbiamo il doc type quindi l'indicazione di che tipo di documento il browser sta guardando poi abbiamo sempre in ogni pagina un elemento html e all'interno di ogni elemento html abbiamo l'elemento head e l'elemento body nell'elemento head mettiamo tutte quelle informazioni che servono al browser ma che non vengono viste nella pagina uno di un esempio giusto per citarne uno e l'elemento title che dà il titolo alla pagina stessa e che viene visto come nome della scheda mentre all'interno del body andiamo a mettere il contenuto della pagina cioè tutto il codice che abbiamo scritto prima tutta quella roba lì se avessimo programmato non a scopo didattico ma se avessimo seguito la modalità classica dell'html beh lo avremmo messo lì dentro all'interno del body e allora andiamo a farlo andiamo a farlo guardiamo magari eccolo qua lo guardiamo in maniera un pochino più rimpicciolita andiamo all'inizio del nostro testo scendiamo fino in fondo e con il tasto maiuscolo selezioniamo tutto il codice a questo punto con un bel ctrl x lo tagliamo togliamo tutti questi spazi inutili e andiamo a inserirlo qui guardate lasciamo anche il commento contenuto facciamo così ctrl v attenzione che in questo caso abbiamo perso la formattazione del testo rischia di essere un pochino disordinato però insomma pazienza vediamo se riusciamo a ordinarlo un pelino magari selezionando fino a fino a qua e andando dentro ok dovremmo avercela fatta guardate lo abbiamo rimesso anche con la formattazione corretta così almeno è più ordinato e facciamo anche un'altra cosa questo contenuto lo tagliamo e lo mettiamo direttamente qua vicino alla scritta body così ci accorgiamo così ci rendiamo conto che dentro il body c'è il contenuto mentre dentro facciamo così dentro led ci stanno info per browser perfetto ora sì che la nostra pagina è completa tra l'altro è molto normale quindi non pensiate che sia una cosa strana se vi renderete conto di questa cosa che all'inizio ci sono tutte le cose di apertura quindi abbiamo il doctype l'html led che si apre si chiude poi apriamo il body ok e attenzione che molto sotto andremo a chiudere il body e a chiudere l'html quindi il body lo chiudiamo e l'html li chiudiamo molto sotto in fondo alla pagina guardate come si fa guardate cosa succede io scorro 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 finché eccoli qua a un certo punto come ultimissima cosa della mia pagina vado a chiudere il body e l'html ricordatevi che questi due elementi di chiusura devono essere praticamente nel 100% delle occasioni gli ultimi due elementi gli ultimi due tag di chiusura della mia pagina web la pagina si chiude sempre con il body e l'html in chiusura quindi mi raccomando con lo slash prima di questi c'è sempre l'intero contenuto e poi tutti i vari tag di apertura non è troppo difficile in questa maniera ci abituiamo già da subito a mettere il codice in maniera un pochino più corretta e strutturata all'interno di quella che poi sarà una vera e propria pagina web quindi ricordatevi sempre di utilizzare questa struttura nelle vostre pagine html il nostro percorso è quasi finito ma è ancora molto importante parlare di altri due attributi due attributi che fino ad adesso non abbiamo trattato perché non ci servivano in questo percorso ma che saranno molto utili invece nel proseguimento del vostro cammino con l'html stiamo parlando degli attributi id e classe class in inglese vi ricordo che gli attributi sono quei valori che si inseriscono dentro all'elemento prima della chiusura della parentesi angolare e che sono indicati sempre come chiave uguale doppie virgolette valore e in questo caso quali attributi andiamo a indicare? beh il primo di cui discutiamo è l'attributo id uguale doppie virgolette e che cosa scrivo qui dentro? posso scrivere qualsiasi valore qualsiasi cosa non ho nessun vincolo posso scrivere per esempio in questo caso titolo 1 oppure titolo meno 1 attenzione il vincolo effettivamente cede quello di non utilizzare degli spazi quindi titolo trattino 1 il suggerimento che vi do è di non usare delle maiuscole di non usare dei simboli che non siano il meno ma di usare solo lettere minuscole, numeri e meno posso scrivere anche paperino 1 per dire paperino 1 posso scrivere paperino 22 posso scrivere Andrea Ciraulo l'unica cosa importante è che all'interno di una stessa pagina tutti gli id siano differenti tra di loro e a questo punto probabilmente state iniziando anche a capire a che cosa serve l'id serve per indicare con un codice univoco un determinato elemento in questo caso un id che avrebbe senso potrebbe essere titolo trattino 1 in questa maniera quando andrò a lavorare con il css per modificare la forma grafica della pagina oppure con il javascript per andare ad attivare delle interazioni io potrò identificare con un codice questo h1 in questo caso potrebbe essere che l'h1 sia l'unico h1 della pagina quindi è facile perché io posso dire al mio css vammi ad identificare l'unico h1 che trovi ma provate a pensare al caso dei paragrafi guardate quanti paragrafi abbiamo realizzato in questa pagina e allora io potrei scrivere all'interno di questo paragrafo un attributo id e lo chiamo paragrafo nome facciamo finta anzi no guardate andiamo con una cosa realistica paragrafo formattazione visto che qui dentro abbiamo parlato di formattazione in questa maniera io quando andrò con gli altri linguaggi di programmazione che si aggiungono all'html ad identificare questo specifico paragrafo potrò farlo sempre con questo id attenzione che non è consentito avere due id uguali anche in elementi diversi quindi io qui non potrei fare una cosa come questa questa cosa qua è sbagliata perché il doppio id uguale non va bene ne devo cancellare uno oppure posso aggiungere qualcosa nel secondo paragrafo formattazione paragrafo formattazione 2 oppure potrebbe essere sì potrebbe essere una cosa come questa guardate in questo modo noi abbiamo differenziato gli id da adesso quando andiamo a lavorare sul formato sull'interazione della pagina noi riusciremo a riconoscere sempre questi elementi perché gli abbiamo dato un codice univoco attenzione c'è anche un'altra cosa che possiamo fare andiamo a prenderci un altro elemento per esempio sempre quest'altro paragrafo perché noi possiamo anche aggiungere ai nostri elementi una o più classi attenzione se l'id deve essere uno e univoco per ogni elemento nel caso della classe scritto class uguali virgolette noi possiamo aggiungere tutte le classi che vogliamo basta separarle da uno spazio quindi ricordatevi di non mettere gli spazi all'interno della stessa classe ma di usarli per separare una dall'altra per esempio ipotizziamo che questo paragrafo noi lo vogliamo con lo sfondo rosso potremmo utilizzare la classe background bg-red l'abbiamo deciso noi di scrivere questa cosa qua potevamo anche scrivere rosso potevamo anche scrivere paperino ok qualsiasi cosa scriviamo la cosa importante è che noi abbiamo attribuito un codice che poi possiamo andare a ripescare con il css o con il javascript in questo caso potremmo aggiungere anche una classe per esempio text green spazio possiamo scrivere ciraolone spazio che ne so io che ne so ok abbiamo appena messo abbiamo appena aggiunto a questo elemento quattro classi bg-red text-green ciraolone che ne so in questo momento queste classi non fanno assolutamente nulla così come non fa nulla l'id semplicemente noi potremmo andare a dire da adesso vami a prendere quelli di lì quel paragrafo formattazione 2 oppure vami a prendere tutti gli elementi con classe bg-red o con classe ciraolone o con classe che ne so questa cosa qua la capirete meglio successivamente con alcune prossime lezioni quello che per il momento ci basta capire che noi abbiamo attribuito un id univoco eccoli qua e delle classi non univoche ed eccole qua le classi possono anche ripetersi noi potremmo avere anche se abbiamo già attivato l'id possiamo anche avere delle classi quindi facciamo così class uguale bg-red mentre qui potremmo avere class uguale text-green e ciraolone perfetto guardate un po' adesso noi abbiamo un paragrafo che ha un id univoco la classe text-green che è uguale a questa la classe ciraolone che è uguale a questa poi abbiamo un paragrafo con un altro id univoco e una classe bg-red che è uguale a questa noi potremmo pensare di dire poi al nostro css guarda tutti quelli che hanno classe bg-red quindi questo e questo gli fai un bello sfondo rosso ma in questo caso no e poi tutti quelli che hanno classe text-green ops tutti quelli che hanno classe text-green come questo e questo gli fai il testo verde a questo non farai il testo verde e poi ancora tutti quelli che hanno classe ciraolone quindi questo e questo e questo no li farai belli come il sole così come il nostro ciraolone benone in questa maniera noi possiamo andare a identificare gli elementi o alcune caratteristiche degli elementi in maniera molto semplice rapide e rapida grazie al css come poi delineare questo qua col css lo vediamo successivamente per il momento ci basta capire che l'id è unico è uno solo per ogni elemento ed è unico all'interno della pagina ci serve a identificare uno specifico elemento mentre le classi possono essere più di una possono essere anche ripetute e ci servono poi ad attribuire alcune caratteristiche che andremo a definire noi a nostra scelta ad alcuni specifici elementi e adesso lo facciamo lo facciamo diamo un'occhiatina a qualche accenno al css cioè guardiamo come funziona il linguaggio che serve a formattare la pagina che serve a definirne l'aspetto come la vediamo come funziona il css beh abbiamo già visto la possibilità di inserirlo all'interno di un elemento come attributo in particolare l'attributo style uguale doppi virgolette e dentro questo attributo possiamo andare a indicare tutti i parametri del css che desideriamo vi ricordo che i parametri del css li troviamo su internet cercando css cheat sheet e che ognuno di questi parametri ci consentirà di modificare una singola caratteristica specifica del nostro del nostro html dei nostri elementi per esempio background color eccolo qua ci permette di modificare il colore di sfondo di quell'elemento ce li dobbiamo ricordare a memoria questi parametri e non abbiamo molte altre alternative se non quella di cercare su google come vi ho già detto tante volte per cui alcuni li ricorderemo a memoria alcuni li andremo a cercare su google quello che adesso vi faccio vedere è che scrivendo qui background trattino color due punti ipotizziamo un yellow per esempio background color due punti yellow vado a salvare il file vado a ricaricare la pagina ed ecco che l'elemento che io ho indicato con quello stile ha uno sfondo giallo se vi ricordate un pochino più in basso avevamo proprio giocato ecco qua guardate avevamo espanso alla massima potenza lo stile all'interno di quell'elemento cambiandone molte caratteristiche e infatti se vi ricordate nella nostra pagina web eccolo qui avevamo un paragrafo diciamo così molto particolare benissimo ma in realtà non abbiamo ancora visto niente perché la vera potenza del css sta da un'altra parte il css ci permette di fare delle cose veramente potenti estremamente potenti guardate torniamo sul nostro file saliamo fino in cima e guardate che cosa metto all'interno dell'elemento head che vi ricordo essere quello che sta all'inizio della pagina web e non viene mostrato serve solo al browser per capire determinate cose beh all'interno di questo elemento io posso mettere un grosso elemento style si apre si chiude sempre nello stesso modo questo qui ormai lo avete imparato andiamo anche a capo così da avere spazio per gestirlo e dentro l'elemento style della mia pagina web posso inserire tutto quello che voglio cioè posso andare a dare delle istruzioni super precise super dettagliate su come voglio che io venga mostrata la mia pagina wow e come si fa questa cosa come si fa beh ogni singola voce dell'elemento style ha determinate caratteristiche la prima caratteristica è che dobbiamo indicare un selettore cioè dobbiamo dirgli che cosa vogliamo andare a modificare per esempio un elemento ipotizziamo di voler mettere uno sfondo arancione ad ogni singolo paragrafo della nostra pagina e allora andremo ad indicare la p di paragrafo come selettore e in questo momento gli stiamo dicendo fai tutto quello che ti indicherò su ogni singolo paragrafo su ogni singola p della pagina web e andiamo di fianco al selettore dopo aver lasciato uno spazio ad aprire e chiudere le parentesi graffe possiamo per nostra comodità andare a capo il computer non ha bisogno che andiamo a capo nel nostro caso lo facciamo e dentro questo selettore e le sue parentesi graffe andiamo a mettere tutti i parametri così come li abbiamo visti in precedenza in questa maniera cioè abbiamo sempre chiave due punti valore chiave due punti valore e separiamo ogni parametro con il punto e virgola vedete chiave due punti valore punto e virgola 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 e così via e andiamo a capo ripeto andiamo a capo per un nostro bisogno di ordine non tanto perché il computer ne abbia bisogno facciamo una prova decidiamo che tutti i paragrafi devono avere una background color abbiamo detto orange facciamo orange red ed ecco qua background color orange red punto e virgola ricordiamoci sempre i due punti andiamo a salvare e quello che ci aspettiamo nella nostra pagina web è che adesso tutti i paragrafi abbiano questa caratteristica del css vediamo se questa cosa è successa ci spostiamo sul nostro browser ricarichiamo la pagina e guardate un po tutti i paragrafi hanno lo sfondo arancione guardate che meraviglia voi direte no alcuni non ce l'hanno per esempio questo perché questo paragrafo non ha lo sfondo arancione perché il css scritto dentro l'elemento come in questo caso ha la priorità su quello che scriviamo nell'elemento head della nostra pagina in questo caso essendoci un background color in conflitto vedete qui gli stiamo dicendo yellow green sopra gli dicevamo orange red in questo caso vince sempre quello all'interno dell'elemento stesso piuttosto che quello indicato sopra quindi gli abbiamo detto che tutti gli sfondi dei paragrafi devono essere orange red che cos'altro potremmo dirgli per esempio potremmo mettere un po di padding facciamo un po di padding due punti 30 pixel può bastare punto e virgola salviamo e andiamo a vedere se effettivamente adesso tutti i nostri paragrafi hanno il padding ricarichiamo la pagina e guardate ogni paragrafo è un po staccato rispetto al suo bordo così e così tutti i paragrafi questo perché perché lo abbiamo indicato con il css ma attenzione c'è una roba ancora più interessante che noi possiamo fare abbiamo detto che possiamo giocare con gli id e con le classi quindi noi potremmo dire ciò che ha id titolo 1 e come facciamo a dirgli ciò che ha id titolo 1 ha determinate caratteristiche quindi potremmo scrivere qui titolo 1 aperta e chiusa parentesi graffa andiamo a capo però c'è qualcosa che non funziona che cosa non funziona il fatto che adesso il mio browser andrà a cercare degli elementi titolo 1 così come cercava gli elementi p qui cerco un elemento che si chiama titolo 1 ma non lo troverà mai perché gli elementi si possono chiamare h1 body h2 h3 p hr a image video eccetera 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 o l lì non troverà elementi che si chiamano titolo 1 come faccio a dirgli che qui voglio indicare lì di beh nulla di più facile basta precedere il mio la mia il mio codice da un cancelletto adesso io gli ho detto vami a prendere l'elemento che ha id titolo 1 e attribuisci determinate caratteristiche potrebbe essere per esempio un color quindi il colore del testo in questo caso facciamo pink punto e virgola salviamo vi ricordo che l'elemento con id titolo 1 era questo h1 quindi torniamo nel nostro browser ricarichiamolo e guardate il mio titolo ha proprio il colore del testo rosa torniamo torniamo nella nostra pagina nel nostro codice andiamo ancora a capo e questa volta proviamo a giocare sulle classi abbiamo detto che le classi possono anche essere essere più di una insomma possono anche ripetersi allora facciamo così nell'h2 mettiamo una classe che chiamiamo text red nell'h3 mettiamo una classe che chiamiamo text green e poi queste classi le andiamo a copiare la copiamo nell'acqua 4 e nell'h6 quella rossa e la copiamo nell'h5 quella verde magari con lo spazio ecco fatto andando a ricaricare la pagina vedremo che ai nostri titoli non è successo assolutamente nulla perché perché adesso non gli abbiamo attribuito la classe ma nel nostro css non abbiamo dato nessuna indicazione per queste classi come si fa ancora una volta se io scrivo qui text red lui mi andrà a cercare un elemento che si chiama text red come gli dico che voglio indicare la classe text red vedete lui mi cercherebbe un elemento fatto vediamo se riesco a farvelo vedere un elemento fatto in questa maniera vedete con le con le parentesi angolari aperte e chiuse come gli dico che sto cercando la classe text red in questo caso non lo faccio con un cancelletto che rappresenta l'id ma lo faccio con un punto tutto ciò che è preceduto dal punto nel css è una classe e in questo caso io dirò text red benissimo color due punti red gli dico tutto quello che è classe text red deve avere un colore red e attenzione andiamo a capo punto text green tutto ciò che ha classe text green deve avere un color green salviamo e vediamo cosa è successo nel nostro browser ricarichiamo la pagina e guardate un po abbiamo degli elementi con classe text red che sono effettivamente rossi e abbiamo degli elementi con classe eccoli qua text green che sono verdi naturalmente le classi si possono anche in qualche maniera mischiare per esempio potremmo decidere che questa che questo paragrafo abbia font big sto inventando io i nomi e ricordatevi questo paragrafo abbia font big così come anche questo magari questo paragrafo abbia background anzi facciamo bg gray e anche questo qua abbia bg gray vedete che ho mescolato un pochino le classi vado qui nel mio style bg gray e gli do come caratteristica no background abbiamo detto background color gray e poi abbiamo font big alla quale darò come caratteristica facciamo un font size di facciamo 72 pixel salviamo e adesso andiamo a vedere come si sono integrate tutte queste classi ricarichiamo la pagina e guardate un po guardate un po io adesso il titolo 2 che ha il colore rosso lo sfondo grigio il la dimensione del carattere molto grande ho un titolo 2 che invece ha il colore verde lo sfondo grigio vedete colore verde sfondo grigio ma dimensione normale così come alla fine di tutto un titolo 6 che invece ha il colore rosso lo sfondo normale ma una dimensione del carattere molto grande perché perché tutte queste cose qua sono state attribuite attraverso le varie classi vi ricordate che prima avevamo utilizzato una classe ciraolone attribuiamola questo paragrafo al primo class ciraolone salviamo eccola qua la nostra classe attribuita e andiamo nel nostro style a definirne le caratteristiche visto che la classe ciraolone deve risultare bella come il sole in questo caso noi possiamo attribuire anche più di una parametro quindi non serve differenziare il background il font e altre caratteristiche possiamo indicare tutto nella stessa classe e quindi in questo caso possiamo decidere per esempio che il colore sarà un bianco white quindi il colore del testo background color scegliamo un purple un viola poi possiamo scegliere che il font size sia di 22 pixel e ancora attribuiamo magari un padding di 50 pixel salviamo ok e tutto ciò che ha la classe ciraolone nel documento avrà tutte queste caratteristiche andiamo a vedere ricarichiamo la pagina andiamo a cercare questo paragrafo e come potete vedere ha una margine una padding scusate differente a una dimensione del testo maggiore allo sfondo viola e al testo bianco ma se vi ricordate c'erano anche altri elementi che avevamo identificato con classe ciraolone eccone qui uno guardatelo qua e vediamo se trovo l'altro eccolo qua anche l'altro guardatelo qui vediamo se nella nostra pagina finale sono stati sono stati colpiti dal css ed effettivamente è così guardate uno e guardate due il css ha colpito in questo caso ha modificato tutti gli elementi con quella classe a cosa serve questa cosa serve perché in questo modo noi possiamo andare a identificare dei gruppi di elementi ai quali attribuiamo delle caratteristiche e se poi vogliamo andare a modificare ipotizziamo adesso di voler cambiare un colore a tutti questi paragrafi beh ci basta andare nel nostro css e non abbiamo bisogno di farlo paragrafo per paragrafo ma andiamo a cambiare il background color del p del paragrafo lo facciamo questo viola shocking rosa shocking di pink e andiamo a cambiare il colore del paragrafo ciraolone e lo facciamo per esempio barleywood guardate che bellino questo barleywood andiamo a ricaricare la pagina e vedete che adesso tutti i paragrafi saranno rosa shocking mentre i paragrafi ciraolone saranno barleywood guardate che bel colore questa specie di beige un po marroncino in questo modo per noi è molto più comodo andare a fare le modifiche soltanto su alcuni su alcuni parametri scritti nel nostro style e così andare a attribuire quelle variazioni a tutti gli elementi ed eccoli qua in questa maniera noi con il css riusciamo ad essere molto molto precisi ma anche molto rapidi nella elaborazione della nostra pagina web e adesso prima di concludere questa parte del percorso quella legata in particolare all'html andiamo a vedere un paio di risorse che troviamo online che possono servirci nella prosecuzione del nostro percorso perché adesso abbiamo imparato veramente le basi ma vogliamo diventare molto molto più bravi e più brave di così e allora che cosa possiamo utilizzare beh dei cheat sheet ne abbiamo già parlato vi basta scriverlo su google e ne trovate diversi non avete che l'imbarazzo della scelta decidete quello che vi piace di più con tutti gli elementi possibili e immaginabili ma se voi andate a scrivere semplicemente html su google trovate numerosi numerose risorse molto molto valide le più interessanti delle quali sono sicuramente v3 schools che un po' il punto di riferimento per tutto ciò che ha a che fare con la programmazione in particolare con un lungo e approfondito tutorial sull'html molto molto ben fatto devo dire anche con gli esercizi pratici per riuscire a permettere in pratica le cose che si imparano man mano quindi questo qua sicuramente molto molto buono così come la pagina di mozilla che sono quelli del famoso browser firefox hanno una pagina sull'html molto molto ricca di informazioni entrambe le risorse che vi ho indicato sono in inglese non so se esiste anche la versione in italiano però nel caso non conoscete l'inglese fate eventualmente la traduzione automatica quella di google vediamo qua se possiamo andare a modificarne la lingua controllatelo voi non vi so dire nel caso ve la fate tradurre dal browser e siete a posto così insomma purtroppo per l'html e conoscere l'inglese è molto molto vantaggioso quindi questi due strumenti v3 schools e html di mozilla eccoli qua sono forse ad oggi punti di riferimento più utili per imparare nel dettaglio ma anche gradualmente tutto ciò che ha a che fare con l'html detto questo trovate molto anche su google cercatelo cercate su internet il il materiale a disposizione è veramente moltissimo diciamo che questi forse sono un po gli elementi principali che mi sentivo di raccontarvi e finalmente finalmente possiamo dire di avere terminato questa parte del nostro percorso quello specifico sull'html ed è arrivato il momento di mettere in pratica le cose che abbiamo imparato mi raccomando fatelo anche voi se no vi dimenticate tutto anzi molto meglio se non l'avete già fatto durante il corso di questo di questo video che riprendiate il video mettendo in pratica le cose man mano che ve le spiego così da essere sicuri e sicure di impararle e allora proviamo come capitolo conclusivo di questo mega tutorial a realizzare una pagina internet dall'inizio fino alla fine vediamo un pochino come ce la caviamo andiamo quindi a creare una nuova pagina la chiamiamo ciraolone punto html modifichiamo l'estensione del file apriamo il file nel browser è vuoto esattamente come da aspettative e attenzione adesso andiamo anche eccolo qui prendiamoci il nostro editor di testo e andiamo a caricarlo nell'editor di testo ecco fatto guardate cosa facciamo anche in questo caso ci piazziamo a sinistra e a destra la pagina web e il nostro editor di solito io mi trovo meglio a fare a sinistra l'editor a destra la pagina in questa maniera noi possiamo modificare da un lato e vedere le modifiche dall'altro magari ce lo zoomiamo un po per il momento e poi vediamo un attimo come sistemare il tutto perfetto a sinistra abbiamo la nostra pagina html prima di tutto andiamo a indicare il doc type html dopodiché andiamo a creare l'elemento html lo chiudiamo molto bene creiamo l'elemento head e poi creiamo l'elemento body perfetto dentro l'elemento head ci mettiamo il titolo title lo chiudiamo il titolo di questa pagina potrebbe essere per esempio il mio portfolio salviamo ricarichiamo la pagina e vedete che qui sopra vediamo il titolo il mio portfolio molto bene sta funzionando andiamo a capo con il nostro body ipotizziamo in questo caso di voler realizzare la nostra pagina con il dark mode quindi vogliamo una pagina scura con testo chiaro che cosa dobbiamo fare in questo caso beh dobbiamo attivare l'elemento style della pagina quindi lo creiamo style eccolo qua e andiamo a indicare ora come identificatore l'intero elemento body cioè tutto il corpo della pagina proviamoci body apriamo e chiudiamo la parentesi e quindi diciamo background color color facciamo un bel black color due punti white perché se no noi avremmo avuto lo sfondo nero e il testo nero in questa maniera invece gli diciamo sfondo nero testo bianco andiamo a vedere se ha funzionato andiamo a creare anche un elemento div eccolo qua che ci raccoglie tutta la nostra pagina e andiamo a creare qui dentro un altro elemento div che ci raccolga invece soltanto la testata usiamo i commenti magari per riconoscerli e non sbagliarci quindi qui facciamo tutta la pagina e qui indichiamo che invece questo elemento raccoglie soltanto la testata benissimo dentro la testata andiamo a indicare l'h1 quindi il titolo principale h1 che sarà il mio portfolio online salviamo ricarichiamo la pagina vediamo se tutte queste cose che abbiamo applicato effettivamente le vediamo nella pagina e già direi proprio che le vediamo molto molto bene sapete cosa facciamo questo h1 lo indichiamo qua nello stile guardate tutti gli h1 gli diamo una text align center center per essere più precisi ricarichiamo la pagina e guardate adesso il mio titolo è centrato nella pagina molto bene direi che adesso qui quindi dentro l'elemento della pagina intera e dopo l'elemento testata andiamo a creare un altro div quindi un altro elemento contenitore generale e questo qua sarà il nostro corpo della pagina qui dentro qui dentro io direi prima di tutto di mettere magari una bella immagine che ne dite secondo me sì andiamo a creare una immagine e con l'attributo source andiamo a vedere come si chiamava il file gorilla.jpg magari gli diamo anche una larghezza potremmo anche farlo con il nostro style invece che con l'attributo width proviamo dai mettiamo una classe facciamo una classe che chiamiamo img img header vuol dire la immagine della testata iniziamo a salvare ricarichiamo la pagina si fa così molto spesso è salvare ricaricare salvare ricaricare e così via all'infinito e qui dentro qui dentro adesso gli diciamo tutto ciò che ha classe img header mi metti una larghezza width di proviamo 300 vediamo come viene salviamo ricarichiamo bene bene facciamo anche 200 la facciamo un po più piccola ricarichiamo perfetto sapete cosa facciamo questo text center lo mettiamo lo assegniamo a tutta la testata e quindi a questa testata diamo un id che definiremo testata salviamo e quindi qui invece di indicare h1 come text center andiamo a indicare proprio tutto ciò che ha id testata col cancelletto ricarichiamo la pagina benissimo ha funzionato adesso forse per precisione dovremmo indicare anche all'immagine di stare in centro facciamolo dai facciamolo si fa in questa maniera assegniamo un margine di facciamo 20 pixel e auto cosa vuol dire il margine di 20 pixel e auto vediamo se lo ha preso non ce l'ha preso facciamo così display block vediamo se adesso ha funzionato ok va bene e alcune di questi sono dei tecnicismi che adesso non ci interessano in poche parole cosa gli abbiamo detto gli abbiamo detto mostrami questa immagine come se fosse un blocco e non un elemento in linea vi ricordate la differenza e in più attribuisce a questa immagine un margine di 20 pixel sopra e sotto e invece un margine automatico a destra e sinistra in modo che questa stessa immagine sia sempre al centro perfetto rimaniamo ancora sapete cosa facciamo questa immagine mettiamola nella testata la taglio e la metto qui nella testata guardate perché perché adesso voglio dirgli che il corpo della pagina quindi facciamo div id uguale corpo nel caso del corpo guardate cosa facciamo id corpo facciamo background color e gli diamo un colore chiaro per esempio corn silk e gli diamo un colore del testo invece scuro un dark blue salviamo ricarichiamo a in questo caso è vuoto proviamo a metterci qui dentro un paragrafo salviamo ricarichiamo e guardate il corpo della pagina adesso è più chiaro non mi piace però in questa maniera sapete non mi piace sapete cosa facciamo allora facciamo così scambiamoli il body lo facciamo così background corn silk colore dark blue e solo la testata guardate la testata la facciamo al contrario quindi copiamo incolliamo gli diciamo background color dark blu e colore corn silk salviamo ricarichiamo e guardate guardate che non sta venendo malaccio non sta venendo male adesso però voglio togliere questo spazio e qui bisogna capire da dove viene da dove arriva questo spazio qui sopra e questo qua qui a destra facciamolo facciamolo questa quest'ultimo capitolo ci serve proprio per capire come agisce uno sviluppatore nella realtà dei fatti proviamo per esempio qui a mettere margin 0 pixel quindi nella nell'id testata vediamo se ricaricando il problema si risolve no proviamo a metterlo anche nell'elemento h1 margin 2 punti 0 pixel salviamo ricarichiamo ok in parte lo abbiamo risolto e forse dobbiamo mettere nell'elemento body il padding di 0 pixel salviamo ricarichiamo niente cosa cavolo potrebbe essere questo questo padding qui intorno non è qui non è qui guardate cosa facciamo tasto destro ispeziona e andiamo a sbirciare questo elemento apriamo il body come se avesse un margine allora facciamo una bella cosa mettiamo al body anche margin 0 pixel salviamo ricarichiamo adesso sì che ragioniamo così sì che comincia a piacermi adesso alla testata però aggiungiamo anche un po di padding padding due punti facciamo 25 pixel ricarichiamo e vedete che abbiamo aggiunto un po di bordo molto molto bene adesso anche all'elemento corpo non ci servono più questi questi dati cancelliamoli all'elemento corpo vado a mettere un padding di 25 esattamente come nel caso della testata ricarichiamo ed eccolo qua perfetto poi 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 che cosa voglio fare guardate voglio prendere un altro div che creo sempre dentro l'elemento corpo quindi lo sto creando qui un altro div al quale voglio dare una classe che chiamo evidenza perfetto dentro questo elemento div vado a capo metto un paragrafo e poi vado su lorem ipsum a prendermi un paragrafo a caso un paragrafo lo generiamo ce lo copiamo incolliamo lo incolliamo qui ecco fatto ricarichiamo la pagina molto molto interessante molto bene magari zoomiamo di nuovo indietro la pagina così da vederla a dimensione più o meno normale ok questa qua è la dimensione normale a cui si dovrebbe vedere adesso voi vedrete poco e niente facciamo una via di mezzo ecco qua facciamo così questo paragrafo che abbiamo evidenziato voglio dargli delle caratteristiche quindi class in evidenza anzi class evidenza quindi punto evidenza facciamo così andiamo a capo in questo caso io gli voglio dare un background color di tipo grigio vediamo se così ci basta ricarichiamo la pagina benissimo dai dai non è male però forse a questo punto facciamo non grigio ma facciamo dark grey no era meglio grigio era più scuro grigio allora facciamo grigio e gli diamo però un colore di testo bianco ricarichiamo molto bene vedete che sta prendendo forma sempre alla classe in evidenza andiamo a dargli anche un pochino di padding di 10 pixel salviamo ricarichiamo direi benissimo anche se sopra e sotto gli avrei dato anche qualcosina in meno vabbè per adesso lasciamolo così dai proviamo a fare padding left e padding right così forse ci piace un pochino di più perfetto dai così sì non mi dispiace direi benissimo in questo modo noi possiamo anche generiamo altri lorem ipsum cinque paragrafi ok prendiamone un altro creiamo un altro paragrafo ecco fatto e un altro ancora facciamo così creiamo un po' di paragrafi vuoti e ci mettiamo i nostri testi fittizi sto togliendo un po' di spazi super eccoli qua vediamo la nostra pagina come sta venendo benissimo ipotizziamo di voler rendere evidenziato anche questo paragrafo quindi il penultimo e allora in questo caso andiamo ad aggiungere al penultimo la classe evidenza salviamo ricarichiamo la pagina ed ecco qua che abbiamo un nuovo paragrafo come in evidenza io direi anche basta ci sono delle altre cose che vogliamo aggiungere a questa pagina ma no dai per il momento va bene l'importante era capire in linea di massima come funziona questa come funziona la realizzazione di una pagina web poi tutte le altre cose le abbiamo viste durante il video casomai le andate a riguardare nel video in modo da integrarle poi nella vostra pagina finale direi che per il momento ci siamo secondo me il risultato insomma è anche discreto no sapete cosa voglio fare voglio cambiare il font andiamo qui nel body quindi in tutto l'elemento body io gli dico adesso che voglio utilizzare un font family sans serif sans serif salvo e guardate mi ha reso il font un pochino più moderno rispetto a quel times new roman che probabilmente stava utilizzando e basta questo era quello che vi volevo insegnare ma volevo proprio farvi vedere molto velocemente come realizzo io una pagina web giusto per darvi un'idea di massima poi ve lo esplorate voi chiaramente andate a riguardare il video per tutti gli altri elementi che potete aggiungere insomma per tutti i dettagli questo serviva solo per farvi capire che come fare da adesso le vostre prove i vostri esperimenti ora vi ci mettete voi in gioco e fate voi tutti i vari vostri tentativi così era come si creava una pagina direi che perlomeno un'infarinatura generale adesso ce l'avete si tratta veramente ora di rimboccarsi le maniche e provarci da parte vostra e basta e basta adesso tocca a voi io la mia parte l'ho fatta io l'html ve l'ho insegnato e ora si tratta di mettere in pratica le cose che vi ho raccontato da parte mia vi ricordo che ci possiamo vedere su ciraulo.me per tutte le cose che possiamo fare insieme oppure perché no venitemi a trovare anche su telegram chiocciolina ciraulo dove ci sono i dietro le quinte i backstage le cose che faccio mentre le faccio insomma dove possiamo instaurare una relazione un po' più stretta poi c'è instagram poi c'è twitch insomma la newsletter trovate tutto sul sito internet se volete davvero seguirmi bene ciraulo.me è il posto giusto mi raccomando rimanete iscritti e iscritti a questo canale perché ci scateneremo anche con altre funzionalità del web design lavoreremo sul css sul javascript su wordpress per creare siti web man mano vi linkerò anche nella descrizione di questo video i video più rilevanti quelli più importanti a cui far riferimento e quindi se rimanete da queste parti insomma il percorso non finisce qui io vi super super ringrazio per averlo seguito vi aspetto su ciraulo.me mi raccomando scrivete se avete delle impressioni delle sensazioni se volete aggiungere delle cose o se volete anche usarlo come quadernetto degli appunti sfruttate pure i commenti che trovate qui sotto veramente un super mega grazie un abbraccio gigantesco e alla prossima ciao